Ricordo che la seduta odierna si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta la partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. I lavori potranno proseguire in forma segreta a richiesta dell'audito o dei colleghi e in tal caso non sarà più consentita la partecipazione da remoto e verrà interrotta la trasmissione via streaming sulla web tv. Do quindi la parola al Presidente Ipaniano e intendo svolgere una breve relazione. Allora, io consulterò degli appunti che ho preso cercando di intuire quale potessero essere le questioni di maggiore interesse della Commissione. Da sostituto procuratore della direzione di settore antimafia di Bari ho istruito decine di processi a mafiosi e trafficanti di droga chiedendo la cattura e il rinvio a giudizio di centinaia di imputati. Processi che in buona parte si sono conclusi con centinaia di condanne per mafia e reati connessi. Tra questi processi, ed è rilevante immagino ai fini che ci riguardano, c'è anche il processo Dolmen, che è il processo scaturito dalle rivelazioni del pentito Anacondia. Anacondia è stato il collaboratore di giustizia più attendibile e importante di tutta la storia criminale pugliese. ci ha consentito in quel caso di far luce su eventi, fatti e circostanze che riguardavano praticamente tutta la Puglia. Tra questi fatti c'era anche l'omicidio di Vincenzo Tesse, che fu attribuito dalle dichiarazioni di Anacondia ad Antonio Capriati. e a seguito di indagini complesse, anche perché il fatto risaliva a molti anni prima delle dichiarazioni di Anacondia, Antonio Capriati è stato condannato in via definitiva all'ergastolo per questo omicidio. La mia professione di magistrato antimafia mi ha portato dunque ad avere conoscenza di molti particolari, delle dinamiche familiari, delle storie personali, dei fenomeni criminali pugliesi e baresi in modo particolare. Anche perché la mia attività risale ormai a più di venti anni fa, e quindi noi avevamo tecniche di indagine molto diverse da quelle attuali, nel senso che avevamo un approfondimento totale della conoscenza delle dinamiche e le operazioni tecniche venivano utilizzate, quelle che ovviamente eravamo in grado di realizzare allora, venivano utilizzate per monitorare e eventualmente prevenire fatti criminosi, ma l'approfondimento tradizionale delle investigazioni non era mai stato trascurato. Quindi la conoscenza di ogni circostanza che riguardava almeno le persone di maggiore rilievo era un patrimonio comune di tutta la direzione degli istituzionali antimafia di Bari. Una delle ragioni che mi spinse a candidarmi a sindaco nel 2004 era la constatazione che, nonostante noi avessimo realizzato, parlo adesso a nome di tutta la magistratura pugliese, credo una delle più compiute, puntuali, opere di bonifica attraverso i mezzi repressivi di tutta la storia italiana, perché la storia dell'antimafia repressiva bugliese è una storia che veniva prima, persino, ed è cominciata prima, delle, diciamo, delle, 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 persino delle stragi di Capaci di Via D'Amelio. Era un'operazione quella fatta dalla magistratura pugliese con organici che ancora oggi sono molto ridotti rispetto a quelli, per esempio, di altre regioni, sia dal punto di vista dei magistrati, sia dal punto di vista delle forze dell'ordine. Mi ero reso conto che, nonostante queste, devo dire anche il mio convincimento, perché io ero convinto che l'esercizio dell'azione penale fosse sufficiente a cambiare il mondo, a migliorarlo. Invece mi resi conto, svolgendo questa professione con un'enorme dedizione, e devo dire anche grazie alle riflessioni che ho avuto modo di fare durante la mia permanenza alla Procura della Repubblica di Agrigento, grazie anche all'incontro con magistrati che purtroppo abbiamo perso, ma che erano dei patrimoni di conoscenza e di capacità di analizzare il fenomeno straordinario e che sono stati miei maestri, io mi ero reso conto che l'azione penale aveva bisogno di essere poi convertita e utilizzata dal punto di vista delle conoscenze in quella che poi cominciamo a definire, perché non esisteva tecnicamente il concetto di antimafia sociale, è stato approfondito. Devo dire, per la prima volta ero ancora magistrato quando Fabrizio Barca, che era il Ministero della Coesione, adesso non ricordo esattamente chi fosse il Ministro, ma Fabrizio Barca mi chiese di inserire in una pubblicazione che si chiamava 100 idee per lo sviluppo, di proporre una tecnica che potesse essere finanziata con i fondi europei, questa pubblicazione credo sia ancora sul web, e quindi Fabrizio Barca mi chiese questo contributo, non so cosa si aspettasse da me, fatto sta che nel 1996 noi scrivemmo da magistrati in quel contributo che a noi non servivano solo ovviamente più uomini, più computer, più tecnologie, ma ci serviva una agenzia nazionale, ed è una delle proposte che mi piacerebbe fare a questa Commissione, un'agenzia nazionale per l'antimafia sociale, che studiando i fenomeni mafiosi, che sono essenzialmente fenomeni di concorrenza nei confronti dello Stato, perché le organizzazioni criminali normalmente agiscono anche dal punto di vista della pedagogia mafiosa cercando di dimostrare ai giovani che lo Stato è ingiusto, lo Stato è squilibrato, è corrotto e che invece l'adesione ad un'organizzazione criminale rende il mondo migliore, è una immutazione della verità, è un capovolgimento di valori che però almeno fino a qualche anno fa aveva convinto migliaia e migliaia di giovani ad aderire con procedure che spesso erano formali, cioè in parlo di giuramenti, di impegni molto molto presi sul serio, ecco, da interi quartieri almeno nella mia città e quindi noi ritenevamo che senza rompere la catena della pedagogia mafiosa che era spesso familiare fosse impossibile esaurire la catena, diciamo così, dei rincalzi che man mano che noi arrestavamo le persone, fermo restando ovviamente che come voi sapete nel nostro ordinamento la pena a funzione rieducativa, quindi non era una, anche la esecuzione di pene definitive aveva comunque un termine e avevamo verificato che nell'emore della detenzione non solo permaneva una capacità dall'interno del carcere e fu per questo che in quell'epoca fu concepito il 41 bis che furono concepiti una serie di provvedimenti rilevantissimi ma nonostante questo i nuclei familiari e parafamiliari mantenevano viva questa pedagogia per cui avevamo continuamente nuove leve e quindi a un certo punto in una situazione in cui nella mia città 50 metri di strada che sono quelli che dividevano la sedia del sindaco da Barivecchia, non so chi di voi è stato a Bari ma c'era Corso Vittorio Emanuele, la strada tra il comune e la prefettura, dietro la prefettura si spacciava droga comunemente e 50 metri di strada cambiavano il destino dei bambini, da una parte c'erano i figli degli avvocati, dei notai, dei commercianti e dall'altra i piccoli dei clan i piccoli dei clan che in qualche caso cominciavano a spacciare a 10 anni spostavano le armi a 12, 13 e a 18, 19 erano già in grado di uccidere una persona io mi occupai di uno di questi che si chiamava De Felice Giovanni, detto Giagian il quale una volta catturato decise di collaborare con la giustizia anche perché nel frattempo aveva avuto un figlio e questo ragazzo a un certo punto a causa delle pressioni familiari fu indotto a ritrattare quindi si trovò in una condizione drammatica dopo aver confessato, credo, una decina di omicidi non era più neanche meritevole dell'attenuante della collaborazione perché aveva revocato questo suo intento e quindi io mi trovai a fare, credo, in una udienza preliminare questo discorso sui 50 metri di strada che cambiamano perché le uniche parole dette per cercare di mitigare la pena nei confronti di questo ragazzo furono dette dall'ufficio e dalla Procura della Repubblica questa mia dichiarazione suscitò polemiche grandissime perché il sindaco dell'epoca che era Simone Di Cania Brescia del quale, preciso, sono poi diventato amico e del quale ho stima e l'abbiamo perso purtroppo pochi giorni fa spinto da una cultura generale sostenne che quel modo di impostare la mia requisitoria nel processo fosse un modo che criminalizzava la città che in realtà a Bari non esistevano organizzazioni mafiose ma solo criminalità organizzata ovviamente questioni molto complesse ci fu una polemica pubblica molto forte ma la concezione che presiedeva allora le istituzioni pubbliche della città era quella che noi esagerassimo parlo ovviamente in maniera molto sintetica esagerassimo dalla Procura della Repubblica la nostra valutazione dei fenomeni nonostante che le sparatorie in quel periodo a Bari erano continue Bari vecchia aveva il soprannome di Scipolandia e se solo consultate credo che la Commissione ha certamente a disposizione le assegne stampa dell'epoca troverete una sequenza di omicidi che negli ultimi anni ovviamente ha perso numeri e vigore immaginate solo che noi eravamo costretti a chiedere al Sindaco di fare i funerali di questi ragazzi che morivano alle 4 o alle 5 della mattina per evitare incidenti e dovevamo cambiare le regole di inumazione delle salme per evitare che le salme di clan avversi si trovassero negli stessi campi provocando poi l'incontro dei parenti che in molti casi si erano anche sparati al cimitero quindi questa situazione che ripeto contrastava con l'efficienza della repressione investigativa il 12 luglio del 2001 arrivò a passo al segno perché fu ucciso un ragazzo di 16 anni Michele Fazio che era il ragazzo del bar che portava i caffè al prefetto era il beniamino di tutta la prefettura della questura era figlio di un ferroviere e si trovò sotto casa sua correndo a salutare il padre che era rientrato dopo un viaggio si trovò in una sparatoria e fu ucciso questo omicidio onestamente provocò una tale indignazione e una tale reazione da mettere in movimento una città intera verso una presa di coscienza che non potevamo lasciar fare tutto ai magistrati io ero in procura e mi sono fatto trascinare non senza non senza dispiacere perché il mio lavoro mi piaceva molto anche se ne verificavo verificavo la mancanza di un pezzo e che quindi andava realizzato ecco perché quando divento sindaco nel 2007 istituisco un ufficio del comune di Bari denominato agenzia per la lotta non repressiva alla criminalità organizzata che riprendendo quel pezzo che voi ritroverete in cento idee dello sviluppo per l'utilizzo dei fondi europei realizzava in maniera organica politiche azioni di antimafia sociale condividendo una strategia sui temi della legalità e della sicurezza urbana con gli attori istituzionali ed economico-sociali del territorio abbiamo copianificato gli interventi in materia di prevenzione dei fenomeni criminali di contrasto agli illeciti il riuso sociale dei beni confiscati abbiamo fatto programmi di educazione alla legalità di opposizione civile alle culture mafiose attraverso un'azione concertata di impegno sociale dal 2007 il comune di Bari attraverso questa agenzia lavora fianco a fianco con la provincia la città metropolitana il centro per la giustizia minorile di Bari l'ufficio dei servizi sociali per i minori anni di Bari l'area penale esterna il tribunale per i minori anni di Bari la procura presso il tribunale per i minori anni di Bari il tribunale di Bari il provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria l'ufficio scolastico regionale per la Puglia l'ufficio di esecuzione penale esterna del territorio di Bari e l'università degli studi di Bari la fondazione Giovanni e Francesca Falcone la camera minorile per gli avvocati di Bari questo nucleo è un protocollo al quale poi partecipano senza avere firmato il protocollo anche la prefettura di Bari la procura della Repubblica presso il tribunale di Bari e le forze dell'ordine l'agenzia opera trasversalmente alle competenze delle ripartizioni comunali facendo analisi e ricerca dei fenomeni criminali sul territorio attiva reti civiche istituzionali sui temi della legalità della sicurezza urbana dà supporto alla progettazione di interventi di inclusione sociale di prevenzione della devianza dà supporto alla progettazione di spazi e soluzioni nel campo della rigenerazione urbana perché per la prima volta l'agenzia intuisce un nesso tra la struttura urbanistica e fattori eziologici mi hanno detto di parlare semplice perché ci stanno ascoltando cioè di come la struttura urbanistica abbia la capacità di agevolare la commissione di reati dà il supporto alla definizione di interventi nel campo dell'attivazione sociale del reinserimento lavorativo si occupa del riusso dei beni sociali confiscati e ovviamente fa programmi di educazione alla legalità tutto bene so essere molto più simpatico di oggi era la semplificazione credo che gli è piaciuta particolarmente vi prego colleghi allora dal 2007 la giunta comunale da me guidata stabilisce la obbligatorietà della la sistematicità della costituzione del comune di Bari come parte civile nei processi alla mafia locale inoltre il comune avvia una collaborazione attiva sull'anti-racket con il fondo anti-racket italiano il FAI le somme ottenute dai processi fino a che ovviamente questo fondo è esistito perché poi è stato eliminato non mi ricordo da quale governo quindi non so dirvi se da governi di sinistra o di destra anche perché in questa materia la distinzione diciamo mi piacerebbe che non esistesse essendo una materia che è patriottica per definizione le somme ottenute dai processi dove noi ci inserivamo venivano utilizzate per il finanziamento dell'agenzia stessa riuso sociale dei beni confiscati l'agenzia ovviamente fa un lavoraccio molto complicato perché bisogna fare la ricognizione destinare i beni definire con il tessuto associativo con le associazioni attraverso avvisi pubblici il migliore utilizzo sociale e comunque per andare ai numeri che sono quelli più importanti negli ultimi vent'anni sono stati destinati al comune di Bari 140 beni immobili prendo un po' d'acqua confiscati alla mafia sulla base della esplicita manifestazione di interesse dell'amministrazione comunale cosa che ovviamente non avveniva in precedenza per finalità sociali e per far fronte all'emergenza abitativa di nuclei familiari in difficoltà economica quindi abbiamo riutilizzati sia come case diciamo popolari di emergenza sia per finalità sociali alcuni di questi immobili uno degli ultimi che abbiamo inaugurato è stato inaugurato dal ministro Piantedosi pochi credo un annetto fa comunque gli immobili più importanti sono progetto Villa Artemisia immobile sito in via Umberto I a Santo Spirito ex Lazzarotto Antonello qui vi ho riportato anche il criminale al quale ero stato confiscato ed è diventato una cooperativa sociale destinata a giovani extra comunitari per il percorso lavorativo progetto Amaranta fuori dalla tratta immobile via Giovani ex via Giovine numero 5 ex Sabino Cabriati parternariato con Caps luogo di ascolto formazione inclusione lavorativa destinato a donne extra comunitari per vittime della tratta inaugurato ecco questo in data 9.11.22 la presenza del ministro Piantedosi progetto AGBEO 30 ore per la vita immobile via Camillo Rosalba ex Fornelli Matteo completato in data 2012-23 per l'accoglienza delle famiglie dei minori malati oncologici ricoverati nelle strutture dei nostri Comi Baresi locale in piazza San Pietro che è la piazza diciamo dove abitavano la cosa sarà rilevante nel seguito abitavano gran parte della famiglia Capriati abbiamo messo in una delle case dei capriati confiscate l'associazione Alcolaio per la mediazione familiare e in via Principe Amedeo ex sedicina c'è l'associazione per aiuto ed assistenza ai cittadini la cosa di cui sono più orgoglioso che abbiamo fatto in quel tempo è il progetto Crescere nella legalità che mirava a garantire i minori figli di adulti condannati per mafia ad una crescita sana così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo dell'89 il processo il progetto era stato elaborato e proposto dall'osservatorio sulla devianza minorile Francesca Morvillo e dalla Camera minorile di Bari il progetto istituiva un monitoraggio a tutela di tutti i figli minori di adulti condannati per associazione di stampo mafioso e reati collegati con l'obiettivo di adottare insieme alle istituzioni cittadine i provvedimenti ritenuti più idonei a tutela del minore al fine di evitare il diffondersi della subcoltura mafiosa questo progetto parliamoci chiaro aveva anche sullo sfondo l'ipotesi di fornire agli uffici giudiziari competenti gli elementi per valutare l'eventuale revoca della potestà genitoriale abbiamo istituito dentro l'agenzia anche una survey sulla percezione della sicurezza di Bari proprio per capire perché in quel periodo ovviamente la paura la faceva da padrone tutti avevano paura di tutto arrivavano i turisti e gli dicevano mi raccomando legati con le borse al corpo non andare a Bari vecchia non andare qui non andare là certo adesso è tutto dimenticato perché sono uscito da Bari oggi ieri sera chiedo scusa era pure la festa di San Nicola c'erano tanti quei turisti che allora i turisti venivano fotografati quando arrivavano dai baresi perché erano così rari che se volevano conservare una fotografia perché era un posto pauroso Bari e questa diciamo fama di posto insicuro era ovviamente il meccanismo fondamentale dove soprattutto Bari Vecchia veniva considerato un territorio extraterritoriale cioè non sotto la sovranità dello Stato italiano non sotto il controllo del comune di Bari vi voglio dire che è capitato che i volanti della polizia fossero girate e messe sul tetto della macchina voglio dirvi che a Bari a San Girolamo che è un quartiere sul mare che adesso è stato completamente riqualificato e dove campeggia la famosa frase del sindaco Dalfino a proposito degli albanesi che furono dopo lo sbarco della Vlora concentrati nello stadio con la sua fermissima opposizione sono persone a San Girolamo io questo è un ricordo nitido arrivavano anche 3-4 motoscafi contemporaneamente davanti alle forze di polizia in ermi perché ogni scafo aveva 100 scaricatori e scaricavano le sigarette davanti a tutti i cittadini cioè i cittadini baresi a quell'epoca avevano la percezione della completa impotenza dello Stato questo era diciamo la radice e la concezione impotenti nel far mettere il casco alle persone il casco non lo portava nessuno quando sono diventato sindaco siamo stati costretti a dire alla polizia municipale che non era necessario fare inseguimenti per fare le multe che le volevano contestare le multe e ovviamente mettendo in pericolo altra cittadinanza gli dissi che secondo il mio giudizio non era necessario l'inseguimento bastava prendere il numero della targa nella speranza che la motocicletta non fosse rubata perché i rischi ai quali si esponevano con gli inseguimenti erano troppo gravi e poi siccome non ci accusarono data l'enorme quantità di multe che avevamo fatto di voler far cassa mi venne l'idea a questo punto con i soldi delle multe per dimostrargli che lo facciamo per la loro testa e per i loro genitori e non per far cassa gli regaliamo un casco e spero che questo non provochi una immutazione del senso della cosa come mi è successo per la battuta dal palco gli regaliamo un casco dopo che loro dimostrano di aver pagato la multa in modo tale che avranno un casco omologato da mettersi sulla testa e devo dire che oggi il casco viene indossato da tutti ah dimenticavo di dire che veniva proprio sconsigliato l'uso del casco perché il casco all'epoca lo usavano solo i killer e quindi dicevano a tutti per evitare di prenderti un proiettile non metterti il casco fatti riconoscere quindi c'era una generale situazione di percezione della sicurezza che era terribile oggi fino alle 4 di mattina c'è gente ovunque questa percezione di insicurezza è completamente svanita e quindi noi possiamo dire che da questo punto di vista l'autostima dei baresi con riferimento alla qualità della vita della loro città sia fortemente cambiata ed è ovviamente anche condivisa dalle migliaia di turisti che arrivano oggi se voi fate una telefonata a un qualunque albergo di Bari oggi non trovate posto neanche se comunque il comune poi ha aderito alla giornata della memoria ma questo lo sapete già l'abbiamo organizzato nel 2008 abbiamo una piattaforma semantica di opinion meaning che incrocia i dati provenienti dalle fonti distribuite in città la polizia municipale l'app Bari risolve la videosorveglianza con algoritmi di opinion mining che analizzano in forma georeferenziata il dibattito pubblico sulla sicurezza e sui social network cerchiamo di capire dove quando ci sono percezioni di insicurezza poi abbiamo realizzato un progetto incipit di inclusione dei condannati indultati per l'integrazione sul territorio i destinatari sono 15 di questo progetto hanno avuto l'opportunità di svolgere un'esperienza di inserimento lavorativo e di conseguire un'autonomia economica proveniente da fonte lecita cioè ci siamo posti il problema della funzione rieducativa della pena devo dire che ricordo che era assessore dei servizi sociali l'onorevole Melchiorre senatore che aveva cominciato un lavoro simile attraverso un progetto che si chiamava cooperativa vita nuova cooperativa vita nuova che ovviamente lavorava in connessione alle aziende municipalizzate e poi nel tempo questo progetto iniziato lo riconosco da Filippo poi ha determinato obiettivamente per le varie vicissitudini tra stabilizzazioni insomma l'ingresso nelle società municipalizzate di molte persone che si erano redente e che avevano ripreso ed è un progetto che io stesso ho condiviso e l'ho proseguito dopo che era stato iniziato dalla precedente amministrazione abbiamo persino creato una radio che si chiamava radio creativa che ha svolto una funzione molto importante perché praticamente la radio faceva costruire i programmi ai ragazzi quindi creando capacità di speaking capacità di pensiero strutturale e soprattutto nei quartieri più difficili abbiamo fatto un progetto in collaborazione con l'università degli studi di Bari per verificare la nostra reputazione attivandolo in 18 scuole secondarie abbiamo collaborato in questi anni con l'agenzia di collaborazione con chiedo scusa con molti centri di cerca ONG istituzionali nazionali e internazionali l'osservatorio internazionale sulla giustizia minorile la presidenza della Repubblica del Messico Washington Office on Latin America Università Commerciale Luigi Bocconi agenzia per la rieducazione dei minori nella provincia di Madrid abbiamo anche esportato questo modello perché siamo andati con i comuni di Bari insieme alle città di Gothenburg Nis Vranie Ghilan spero si pronunci così e Scopie abbiamo elaborato un progetto simile ma anche con la città di Città del Messico abbiamo ricevuto un invito dal consigliere per gli affari giuridici e sociali della capitale messicana a spiegare questo modello in questo contesto di lavoro sinergico il comune di Bari con tutte le istituzioni della Repubblica nello stesso periodo si inserisce e vengo alle cose che di cronaca diciamo così si inserisce anche la chiusura al traffico delle auto di Bari Vecchia la ZTL che io diciamo Bari Vecchia dovrebbe avere 26 varchi di accesso la cosa voi potreste pensare che io me la ricordo perché ho fatto il sindaco no me la ricordo perché avevo fatto il magistrato e ogni volta che dovevamo fare un'operazione a Bari Vecchia per arrestare le persone dovevamo impiegare molti più uomini per cinturare la zona perché c'erano moltissimi varchi e c'era la possibilità di camminare sui detti perché le case erano una vicina all'altra e naturalmente installare telecamere su tutti i varchi rilevanti riprendere chi entra e chi esce era un'operazione sicuramente utile poi alla fioritura di Bari Vecchia come zona più bella della città e dedicata ai turisti e questo sarebbe avvenuto nel tempo ma in quella fase era una vera e propria azione di prevenzione criminale perché era la principale piazza di spaccio della città e quindi anche chi andava a comprare sostanze stupefacenti poteva essere registrato e verificato ovviamente ci fu una insurrezione vera e propria perché vietammo il parcheggio abusivo creammo dei parcheggi esterni sul lungomare in piazza San Pietro e in altri luoghi largo Santa Chiara adesso vado ovviamente a memoria e cambiamo completamente la vita di queste persone che erano abituate a avere la macchina sotto casa e quindi diciamo la verità che questa innovazione portò via molti anni io ho un articolo del 2008 dove nella relazione ovviamente soprattutto con le donne perché i maschi erano spesso assenti giustificati diciamo così nel senso che non c'erano perché erano detenuti o comunque non avevano questo tipo di cura ci inventammo se lo inventò il mio assessore ai lavori pubblici Simonetta Lorusso con l'assessore al traffico Antonio Lecardo ci inventammo di dare per impedire il parcheggio e per abbellire la città di dare in affido fioriere nominative cioè con il nome della persona affidataria che aveva il compito di curare la pianta sembra una sciocchezza le fioriere sono ancora là e naturalmente questo perché cercavamo di di trovare la maniera di dialogare per creare questa ZTL e quindi per fare questo lavoro abbiamo dovuto chiedere aiuto ai parroci siamo andati nelle parrocchie siamo andati per strada perché la reazione era furibonda sia devo dire da parte i cittadini per bene che erano semplicemente infastiditi dal cambiamento perché questo voglio ribadire una cosa che Barivecchia ha al 99% delle persone sono persone per bene ma bastava un numero piccolissimo non solo per uccidergli i figli ma anche per creare problemi di questo genere e devo dire che uno dei mezzi più importanti è stato quello di parlare con le donne ci sono articoli di giornale del Corriere Mezzogiorno se non mi ricordo male di Lorena Saracino che veniva veniva ad assistere alle riunioni che io facevo con le donne dei quartieri per diciamo per parlare un po' di tutto quindi io sono andato a casa di donne non meglio identificate perché alcune le conoscevo altre no non sto dicendo che erano tutte donne come posso dire assolutamente prive di contraddizioni con rispetto ai loro parenti però il progetto crescere nella legalità glielo andavamo a spiegare famiglia per famiglia cioè gli andavamo a dire se continuate a educare i vostri figli in modo sbagliato rischiate di perderli e gli andavamo a dire che stavamo facendo la ZTL per consentire ai loro bambini di poter giocare in sicurezza per le strade di Barivecchia che se l'avete vista è il posto ideale per giocare e non lo era a quell'epoca questo lavoro di interlocuzione ha centinaia di episodi centinaia di episodi peraltro noti perché io certamente chi allora era consigliere comunale come senatore Merchiore sa quante volte io sono sono stato per strada a cercare di pacificare e di anche imporre le regole da parte del comune perché il quartiere andava liberato dalle auto andavano messe le telecamere e bisognava dare esecuzione alle decisioni del comune anche l'incontro da me citato dal palco aveva l'unico scopo di far capire che l'aria era cambiata che dovevano comportarsi bene mai per chiedere protezione come qualcuno sostiene in maniera strumentale o per errata interpretazione delle mie parole senza conoscere i fatti l'evento fu un evento come tutti gli altri di cui vi sto parlando per imporre il rispetto delle regole anche a chi non aveva capito il significato dell'amministrazione il significato politico e sociale dell'amministrazione che io guidavo ovviamente se devo fare una confessione è evidente che utilizzavo la mia storia personale perché mentre persino i vigili o i poliziotti o i carabinieri e certamente i politici precedenti facevano fatica a farsi riconoscere questo ruolo era una battaglia quotidiana per ragioni che a questo punto non saprei neanche spiegare io giravo per tutta la città nel pieno rispetto perché non è mai successo nulla che mi riguardasse certo ci sono stati momenti difficili momenti di conflitto faccio un esempio quando chiusi il lungomare di Bari per sovvertire un'abitudine che c'era di parcheggiare le macchine in tripla fila per prendere il fresco durante l'estate ci fu una vera e propria insurrezione peraltro diciamo sostenuta politicamente dalla circoscrizione di Bari Vecchia aveva il presidente che si chiamava Ferrorelli se non sbaglio che contrastava questo mio provvedimento ci fu addirittura un momento in cui non ricordo l'anno in cui in corso Vittorio Emanuele quindi davanti alla prefettura davanti al comune queste persone avevano ebbero la la forza di portare dei copertoni che incendiarono e la polizia non seppe trovare altro modo per risolvere il problema data la situazione che portarmeli su io parlai con una donna che onestamente quando chiesi al poliziotto chi fosse questa donna non era stata identificata la quale mi disse che avevano fatto questa specie di insurrezione perché loro così non riuscivano più a vendere le birre sul lungomare e io gli dissi ma perdonate lei non può vendere le birre non ha la licenza chi gliela ha data la licenza e lei mi disse no la licenza me la sono data io ora questo era il clima nel quale ed è evidente forse mi sbaglio che a me i cittadini baresi chiedevano questo in quel momento cioè io ero uno dei magistrati di punta della direzione di settore antimafia e ammetto anche con qualche contraddizione teorica mi ero ritrovato a fare il sindaco e questa cosa non l'abbiamo decisa noi è stata decisa dal popolo barese è stata decisa devo dire persino contraddicendo i normali equilibri politici voglio ricordare che quando io sono stato eletto sindaco con il 54% dei voti a 41 le elezioni europee che si svolsero nello stesso giorno avevano la percentuale di voto completamente invertita quindi non c'è dietro un ragionamento politico dietro quell'amministrazione dietro il modello che abbiamo realizzato c'è si è consolidato dopo c'è un'intuizione popolare proveniente dal basso che chiedeva un cambiamento e questo cambiamento era un cambiamento che utilizzava ripeto anche con qualche contraddizione una figura che veniva da un altro contesto e che probabilmente ha fatto anche fatica se proprio mi devo devo fare ammenda di qualche cosa ho fatto fatica a cambiare ruolo perché di fronte faccio un esempio davanti all'università di Bari la facoltà di giurisprudenza c'era un parcheggiatore abusivo che utilizzava addirittura un'ansa del giardino stiamo parlando del centro di Bari un'ansa del giardino per parcheggiare le macchine il senatore Mercosio se lo ricorderà io vado la prima volta chiedo ai vigili di sgombrare sgombrano mi pare che succede due volte che lo sgombrano la terza volta sto andando all'università per un convegno a piedi e me lo ritrovo lì e mi viene non lo so che cosa mi viene mi fermo chiamo chiamo il comandante dei vigili chiamo la multiservizi se non mi ricordo male e chiedo al telefono ma avete un guardrail un pezzo di guardrail perché gli dovevo chiudere lanza poi il senatore vi darà i dettagli vi farà il disegnino della piazza perché lo conosce meglio di me e io mi si un guardrail davanti a questa a questa cosa lì in diretta con tutte le televisioni un manicomio che non finiva mai probabilmente non lo rifarei io se non lo rifarei perché sono anche mi sono evoluto diciamo da quel da quel momento ho cercato di moderare come voglio dire la mia indignazione non ci sono ancora riuscito totalmente perché ovviamente non è facile cambiare anche anche diciamo quando diventi anziano però questa anelito alla liberazione dei luoghi era un anelito che il sindaco viveva in diretta e quindi io sono andato dalla sorella di Antonio Capriati per ribadirgli con grande serenità ma anche con molta determinazione che le regole non le facevano più loro a piazza San Pietro per stabilire se doveva esserci il parcheggio non ci doveva essere se ci doveva essere il barco non ci doveva essere ma le facevamo noi devo anche dire che anche il rilascio degli immobili confiscati alla famiglia probabilmente fu oggetto di questa discussione perché si io precisai in occasione di quel colloquio che se non avessero rilasciato gli immobili in modo bonario li avremmo comunque liberati è chiaro che è un episodio di 15 o 16 anni fa e non so se vi è capitato in questi giorni mi sono riguardato un sacco di documenti e mi sono capitati addirittura alcuni documenti che ho firmato io diciamo atti della copia degli atti della procura io non mi ricordavo minimamente nulla di questi fatti quindi io non escludo di avere dato dettagli sbagliati se come ho sentito il sindaco di Bari attuale ricorda di non essere stato con me probabilmente ha ragione lui però è sicuramente accaduto un altro episodio molto simile in cui io e il sindaco eravamo per strada a piazza della cattedrale e il sindaco a un certo punto che ovviamente non era De Cardi adesso era un ragazzo di 32 anni che mi dava del lei che aveva non gli usciva il fiato dalla bocca quando parlava con me anche perché fu scelto da curriculum io non lo conoscevo fu scelto perché ero un ingegnere dell'Ana se io dovevo fare la rivoluzione del traffico a Bari cosa che peraltro abbiamo anche fatto ma vi esento e quindi lui a un certo punto mentre stavamo lì in piazza della cattedrale che è il cuore pulsante assieme a San Nicola ma forse persino di più di San Nicola perché a un certo punto mi disse vedi quelli sono stati quelli sono stati con riferimento all'episodio che io ovviamente devo confessare inizialmente a vedere la fascia di Antonio mi era venuto da ridere nel senso che era molto spaventato anche perché aveva a che fare con una realtà che non era la sua se uno avesse detto a me per favore traccia una strada o fammi un pezzo di autostrada sarei morto perché era un altro mestiere lui stava andando a fare assieme alla ZTL un lavoro al quale bisognava prepararlo io mi ricordo che affrontai questi ragazzi e gli dissi questo ingegnere è l'assessore è come se fossi io quindi per favore basta non toccatelo esattamente la stessa cosa che di fronte alle rimostranze sulla zona parcheggio esattamente lo stesso discorso che facevo a tutti anche perché dovevo presentare all'intera città persone sconosciute i miei assessori che dovevano svolgere la funzione e che dovevano avere da me la protezione la mia protezione non quella della sorella del boss la mia protezione perché io ero il sindaco di quella città e avevo il dovere di fare quanto necessario per far lavorare serenamente i miei assessori qualcuno mi dice ma perché non siete andati dalla polizia vabbè devo confessare che il racconto di Antonio non conteneva notizie di reato decenti diciamo nel senso che il fatto era molto confuso era stato affrontato da uno che aveva le spalle aveva sentito una cosa dura insomma sinceramente era un discorso che se l'avessimo riportato al maresciallo di uno dice ma tu ti puoi permettere di valutare se una cosa è una notizia di reato no beh l'avevo fatto fino a poco tempo prima non era una notizia di reato era un evento di colluttazioni varie colluttazioni in senso dialettico di incontri che voi forse non riuscite a immaginare ma sotto il portone del comune faccio un altro esempio sotto il portone del comune si riunirono sempre il senatore Melchiormi è testimone si riunirono tutti i dipendenti delle case di cure riunite che erano rimasti senza lavoro e di fronte io scendo davanti al comune e questo gruppo di persone c'erano delle delle rimostranze fortissime e un po' come poi è successo a Taranto quando non appena sono diventato presidente l'ho detto tante volte anche quello una donna mi dette un calcio d'accordo? io non ho mai pensato mi girai semplicemente guardando questa donna così come sto guardando lei e poi ripresi a parlare facendo finta di nulla non le ho dato un calcio no 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 però voglio dirle voglio dirle che voglio dirle che chi non ha mai chi non ha affrontato situazioni del genere non riesce a comprendere fino in fondo che c'è il momento come devo dire ho fatto sempre io di andare dalla procura della repubblica denunciare fatti accompagnare persone e c'è il momento in cui devi gestire una situazione in cui l'autorità sei tu e non puoi delegare l'autorità e l'autorevolezza ad altri il fatto che riguardava il sindaco l'assessore De Caro non era una notizia di reato e quindi non riteni perché la responsabilità è solo mia non riteni di fare denuncia ma di affrontare la questione nel modo in cui ho detto cioè continuando a parlare e stando al fianco dell'assessore per aiutarlo a superare tutti questi conflitti che man mano si erano sviluppati questa cosa alle 20.000 persone della piazza era chiara nessuno ha frainteso quella frase la frase è stata fraintesa da chi non ha mai vissuto il contesto nel quale e io per questo tra virgolette non me la prendo chi non ha vissuto cose del genere e vicende del genere è lì che ho sbagliato cioè io ho dato l'impressione a chi non ha vissuto quelle cose e glielo raccontate in una maniera tale da poter facilmente dire Emiliano con i pantaloni in mano è andato dalla dalla sorella del boss a chiedere protezione per Descartes la scena è comica anche solo a dirla perché in quel contesto nel quale ripeto io avevo un altro avevo un'altra percezione da parte loro cioè l'ultima cosa che potevano immaginare è che io potessi andare a chiedere protezione a loro anche perché appartenevo a quella categoria di persone e credo che in un'uncomissione antimafia ne avete traccia che appartengono alla parte infame del mondo cioè io ero uno sbirro con me non si può parlare se si parla con me non lo si può ammettere io sono lo sbirro che aveva fatto condannare a regastolo il fratello anche solo dire che mi ha fatto entrare in casa era una cosa inconfessabile mi scuso con la signora per averlo detto pubblicamente perché effettivamente l'ho messo in imbarazzo però in questo modo noi abbiamo ripristinato il controllo del territorio senza operazioni militari senza il battaglione dei carabinieri che era lì senza la celere senza abbiamo ripreso con una fatica quotidiana con le fioriere con il ragionamento con le agenzie con i servizi sociali dimenticavo di dire che quando sono diventato sindaco a Bari c'erano solo 12 assistenze sociali e quindi erano travolte dalla situazione vi ricordo che erano talmente poche che accade un fatto terribile cioè una famiglia seguita dai servizi sociali praticamente affamò e fece morire una bambina si chiama Valleonora nel quartiere di Enziteto oggi San Pio i genitori di questa bambina sono stati condannati a 30 anni di reclusione per avere e gli assistenzi sociali che seguivano questa famiglia furono messi in stato d'accusa diciamo tra virgolette io poi ero stato appena eletto ne ho passato un sacco da questo punto di vista dal ministro forse era prestigiacomo non mi ricordo perché si sostenne che i servizi sociali di Bari non funzionavano ora premesso che facevano tutto il possibile e il senatore Melchiore lo sa perché li ha guidati noi nel giro di poco tempo abbiamo portato queste assistenze sociali ad essere nel numero di 53 54 c'è un altro mondo e devo dire che sono stati indispensabili per fare questo lavoro così complicato un'altra cosa ovviamente tutto quello che vi ho detto non starebbe in piedi se voi non poteste constatare il cambiamento della città di Bari perché vi sto parlando di attività politica di antimafia sociale di repressione della mafia non attraverso le misure cautelari non attraverso le indagini e le condanne ma attraverso la politica che credo sia una cosa di vostro grande interesse cioè se questo metodo che noi abbiamo tentato di esportare cioè ne abbiamo parlato tante volte ma se questo metodo diventasse se ogni comune importante avesse un'agenzia come questa se le agenzie dei comuni lavorassero in connessione con uffici della regione Puglia perché poi io ho preso questa esperienza e l'ho riportata a livello della regione Puglia abbiamo investito 30 milioni di euro in attività di antimafia sociale sostenendo attività ovunque in connessione con le scuole le associazioni l'associazione nazionale magistrati abbiamo istituito nella mia amministrazione in regione la commissione antimafia abbiamo promulgato il testo unico per la legalità dell'antimafia sociale che mi permetterò di trasmetterle perché si tratta secondo me della legge di antimafia sociale più avanzata d'Italia abbiamo varato appunto questi cantieri innovativi dell'antimafia sociale per il riutilizzo dei beni confiscati perché chiaramente il comune di Bari ha potuto assieme agli altri comuni pugliesi riutilizzare i beni perché c'erano i finanziamenti della regione perché i comuni non hanno i soldi cioè il comune di Bari non avrebbe mai potuto chiedere l'assegnazione di 140 immobili se non avesse avuto il nostro sostegno e stiamo ovviamente anche in regione abbiamo fatto la stessa delibera di costituzione obbligatoria nei processi di mafia in un processo che riguardava estorsione di imprenditori di foggia gli imprenditori non si sono presentati in aula e l'unica persona che era presente in aula a rappresentare la parte civile ero io abbiamo anche rafforzato il nucleo rispettivo in sanità che è diventato una specie di piccola come vogliamo dire di piccolo centro di controllo della sanità di secondo livello quindi un controllo che corrisponde alla potestà di vigilanza della giunta io ho avuto la disponibilità di moltissimi ex ufficiali di polizia giudiziaria con i quali ho lavorato nel tempo ma anche di altri che volessero partecipare per lavorare al NIRS che sta facendo un lavoro egregio sia dal punto di vista dei suggerimenti di modifiche organizzative sia dal punto di vista del controllo di legalità e poi ovviamente stiamo estendendo questo modello il NIRS che abbiamo messo a punto in sanità a tutto il resto dell'amministrazione quindi noi costituiremo a breve un nucleo rispettivo della regione Puglia concludo dicendo una cosa sulla regione Puglia non è in corso nessuna indagine lo so che per molti è una sorpresa immaginate che la campagna di mediatica che abbiamo subito è stata tale che un mio assessore era convinto che l'assessore che si è dimessa per le vicende del marito fosse stata arrestata sto parlando di un membro della giunta non mi fate dire chi cioè quindi capirete che io vi chiedo e credo che sia uno dei compiti della commissione antimafia vi chiedo tutela cioè vi chiedo di raccontare a tutta l'Italia per favore non siete obbligati a farlo ma io ve lo chiedo pressantemente di raccontare che il presidente della regione Puglia che oggi è stato in audizione non è oggetto di alcuna indagine di nessun tipo in nessuna delle indagini di cui avete parlato perché io ho l'impressione che anche a causa di alcune dichiarazioni di deputati ci sia una confusione dovuta anche alla sfortunata contemporaneità con altre vicende ci sia una confusione per cui hanno l'impressione che io debba rispondere di qualche cosa o a qualcuno io sono venuto qui la presidente me lo ha confermato per dare un contributo sulla base della mia esperienza alle vostre conoscenze in materia di antimafia soprattutto antimafia sociale perché sull'antimafia quella repressiva ho perso aggiornamento onestamente non sarei molto utile che però è un settore molto importante io vi prego di ribadirlo cioè ripetete a tutti ma la questione della regione Puglia non c'entra nulla con le indagini in corso a Bari poi non è un problema direttamente mio devo dirvi che neanche l'aggiunta del comune di Bari è oggetto di alcune indagini per quello che risulta è esente da qualunque tipo di indagine non non è che stanno approfondendo non c'è nessuna indagine che riguardi né il comune di Bari né la regione Puglia per favore mi aiutate a dirlo all'Italia intera che non c'è nessun paragone tra fatti diversi che stanno accadendo in altri luoghi potete chiedere ai deputati dei vostri rispettivi partiti di non mettermi in paragone con vicende che sono dolorosissime quindi ma che non hanno niente a che vedere con la mia posizione ve lo posso chiedere è questo il vostro ruolo io penso di sì aiutatemi a ripristinare la verità e a raccontare i fatti per come per come sono andati grazie grazie presidente io ho già diversi iscritti a parlare però anche collegandomi a questo suo diciamo tra virgolette appello finale credo di doverle fare una domanda per poter scambolare il campo da altri dubbi che sono circolati e quindi lei sa che da numerose fonti aperte si apprende che lei poco prima dell'esecuzione della misura causolare a carico di Alfonso Pisicchio lo avrebbe questo leggiamo sui giornali avvisato di indagini a suo carico invitando alle dimissioni io non posso non chiederle se questo corrisponde a vero e se in questo caso com'è venuto a conoscenza dell'indagine in corso e se è venuto a conoscenza dell'indagine in corso perché non ha ritenuto di denunciare un'illecita comunicazione di un'informazione segreta invece che comunicarla alla persona interessata allora io nel caso di specie non ho realizzato condotte men che trasparenti e non posso che riportarmi al comunicato stampa che ho diffuso in data 11 aprile l'ultimo scorso che ho messo nelle mie carte e che posso mettervi a disposizione ribadendo ancora una volta di essere a completa disposizione della procura di Bari nel caso dovesse rendersi necessario un qualsiasi ulteriore approfondimento rispetto a quanto sin qui accertato da quell'ufficio non posso che quindi vi leggo il comunicato la nomina commissario eh? un momento fate rispondere la nomina fate rispondere poi intervengo io grazie la nomina commissario arti di Alfonso Pisicchio è stata effettuata nel dicembre scorso al solo fine di seguire il percorso legislativo con eventuali riformulazioni del disegno di legge per l'attribuzione all'arti delle competenze aggiuntive di trasferimento tecnologico l'incarico aveva natura temporanea questo il ruolo del commissario e sarebbe seguita successivamente la nomina del direttore generale ad altra persona non appena concluso l'iter di cui sopra la nomina è stata effettuata sulla base del fatto che il professor Pisicchio aveva dato assicurazioni che le indagini a suo carico erano state chiuse mi fermo un secondo della pendenza dell'indagine si sapeva dal luglio del 2020 quindi era un'indagine nota quindi io non ho avuto nessuna particolare notizia nel momento in cui è stato richiesto allo stesso professor Pisicchio di dare riscontro fattuale a queste sue assicurazioni alla luce delle verifiche a 360 gradi che l'amministrazione regionale sta effettuando su tutte le eventuali situazioni giudiziariamente rilevanti voglio dire che noi abbiamo dopo i fatti che hanno riguardato alcune personalità politiche e non abbiamo fatto un riepilogo di tutte le situazioni in cui c'erano indagini notoriamente aperte a carico di Tizio Caio Semproni e abbiamo chiesto il riscontro in questo senso si è dimesso il capogruppo di un partito si sono presi i provvedimenti cioè c'è stato un lavoro di accertamento delle situazioni e la stessa cosa siccome questa indagine era nota semplicemente si è chiesto a chi di dovere di dare riscontro di quanto affermato essendo per altri passati moltissimi anni dopo tali riscontri in data di ieri scrivevo nel comunicato ho proposto alla giunta di sostituirlo con un dirigente della regione Puglia la esecuzione delle misure catelari e quanto riportato alla stampa in merito alle accuse di volte allo stesso e agli altri coindagati costituiscono elementi gravissimi intollerabili quindi questa è quella è quello che posso dirvi non posso aggiungere altro anche perché ho capito da questa domanda che da essere uno che sta qui per darvi una mano a comprendere il sistema devo adesso darvi delle risposte che vi ho dato però non mi sono certamente sottratto devo darvi delle risposte su un fatto che non ha nulla a che vedere per quello che mi consta con la criminalità organizzata e mafiosa e quindi lo dico per voi io quello che posso e debbo dirvi ve l'ho detto e credo di essere stato collaborativo anche di fronte ad una domanda che onestamente giudico incongrua rispetto all'oggetto dell'audizione il presidente diciamo che come lei ha fatto legittimamente la sua relazione i membri possono e il presidente a maggior ragione possono fare le domande che reputano congrue e fermo restando questo ovviamente nessuno la vuole obbligare a rispondere sono cose note io ho risposto intanto la prego presidente io non l'ho mai interrotta di non interrompere poi le do la parola senza problemi non deve diventare un dibattito un attimo onorevole Orlando si sto parlando quando finisco le do la parola e quindi il tema è che quello che è stato riportato è che tra virgolette peraltro c'è una vecchia inchiesta che ti riguarda che ha ripreso slancio questo è stato riportato su fonte aperta quindi la risposta che lei mi dà è una risposta dicendo si sapeva non era questo ovviamente il tema fermo restando che lei se volesse rispondere possiamo andare insegretata ma se ritiene di dover rispondere solo alla procura lo può fare però devo prendere atto che sul tema specifico preferisce non rispondere prego onorevole Orlando chiedo scusa prego onorevole mi perdoni io io ho risposto ho detto che non ho realizzato condotte neanche trasparenti vi ho dato la risposta che ho dato pubblicamente sul punto e ho riletto il comunicato stampa dopodichè posso anche sintetizzarvelo non mi sono rifiutato di rispondere posso solo dire però che i messaggini di cui si parla sulla stampa mi risulta siano stati acquisiti mi risulta anche questo dalla stampa dalla procura della repubblica e quindi l'unico soggetto che può dare risposta alle domande che lei mi ha fatto è il procuratore della repubblica che mi risulta avete sentito ieri quindi se gli avete posto la domanda e lui ha risposto benissimo io non ho altro da aggiungere ma non mi sono assolutamente rifiutato di rispondere ci mancherebbe grazie prego onorevole Orlando sì no presidente sull'ordine dei lavori perché il presidente Emiliano ha presentato diciamo una relazione nella quale è definito un perimetro rispetto alle questioni di cui la commissione si dovrebbe occupare se questo perimetro si ritiene non sia sufficiente prima di iniziare una discussione nella quale questa commissione assume una sorta di funzione di riesame rispetto a procedimenti giudiziari aperti presunti ipotizzati sarebbe bene che questa cosa la chiarissimi preventivamente perché la vicenda dei messaggini e dell'eventuale fuga di notizie come è stato sollevato non ha nessuna attinenza al tema della presenza della criminalità organizzata a Bari quindi lo dico soltanto presidente per dare un ordine ai nostri lavori nel senso che a questo punto chiediamo al presidente Emiliano di integrare con eventualmente altri elementi che riteniamo siano necessari ma io non vorrei lo dico così a occhio magari mi sbaglio magari sono pessimista che qui in qualche modo si apra una discussione che è una discussione che è attinente a procedimenti giudiziari che come ha precisato il presidente Emiliano non hanno diretta afferenza all'ente da lui guidato o altri enti e che però per ragioni diciamo di associazione territoriale possono stimolare una curiosità e un'attenzione da parte dei colleghi della maggioranza lo dico soltanto per dare ordine ai nostri lavori questa è la questione fondamentale io non penso che questa commissione debba assumere quella funzione che è spesso assunto ma se lo dovesse fare è meglio che lo sappiamo prima e ci organizziamo di conseguenza grazie 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 le sgombro il campo da ogni dubbio non a caso quando ho introdotto questa audizione ho detto che questo filone non è peraltro nemmeno su Bari perché altrimenti non avrei richiesto gli atti di tutti i casi che in questi giorni si sono succeduti ma è necessario a individuare le modalità che la criminalità organizzata utilizza per entrare in rapporto con la politica e come voi mi insegnate perché altrimenti non avremmo chiesto altre carte questo riguarda anche la corruzione ed altri fatti che nello specifico riguardano Pisicchio quindi in questo senso ma non credo di dovermi giustificare rientrava la mia domanda per quanto riguarda gli approfondimenti è dovere dei commissari valutare che tipo di approfondimenti chiedere nelle loro domande io certamente non indirizzo le relazioni degli auditi ho iscritti diverse persone se ce ne sono altri si possono iscrivere in modo che riesco a organizzare al meglio i lavori prego senatore Gasparri grazie presidente allora ci sono varie questioni che sono emerse anche su fonti aperte come lei ha detto e sulle quali diciamo è opportuno come dire fare un approfondimento ad esempio io so che sono state svolte delle indagini riguardanti l'Amtab che è una società controllata dal dal comune e questo denota una vicenda che è stata pubblicamente discussa di infiltrazioni attraverso questa società nel contesto barese il presidente Emiliano ci ha tenuto a fare una descrizione ampia lunga era suo diritto che ha esorbitato dalla vicenda della sua funzione di presidente della regione ma ha storicizzato la vicenda di Bari il degrado della città la genesi anche del suo impegno politico amministrativo e anche le vicende che spesso hanno riempito le cronache per cui mi sembra legittimo chiedere anche qualche diciamo sua valutazione rispetto a tutto questo che è avvenuto e quindi in particolare l'amptab è stato un punto molto particolare nella vicenda barese perché aggiudicazioni di appalti da parte del comune da parte insomma di chi ha gestito il territorio diciamo a noi preoccupano molto queste vicende quindi capire che cosa sa lui di questa vicenda se ci sono procedimenti anche in altre società partecipate perché poi è ovvio che poi spesso è vero che tra il comune regione tra una città e l'altra si rischia di fare una confusione però la storia è intrecciata Presidente Emiliano lei stesso racconta la vicenda la raccontata lei in un comizio la vicenda della visita alla storia del Bosco con De Caro ma oggi ci ha ridetto che se De Caro non se lo ricorda forse ha ragione De Caro ma lo dice con un tono di uno che dice che ha tolto De Caro almeno io così ho capito insomma per cui siccome c'è un intreccio evidente tra le personalità la vicenda politica è ovvio che noi facciamo anche delle considerazioni che rischiano per intrecciare le vicende poi cerco di essere rapido io trovo anche discutibile lei ha detto ad un certo punto imporre regole ora imporre regole è giusto imporre regole ma andando a casa delle persone sbagliate è un metodo errato quindi siccome sta la commissione antimafia anche sotto il profilo pedagogico educativo e di indirizzo mi pare che se tutti gli amministratori vanno a imporre regole a casa delle sorelle o dei parenti e dei boss diamo un indirizzo complicato che poi rende difficile distinguere perché lei ha la sua storia e dice io ci posso andare e se ci va il vice sindaco di Lamezia o di Caltagirone che fa va con lo stesso spirito quindi questo ci interessa anche come indirizzo complessivo essendo questa la commissione io trovo sconcertante quella sua azione quella sua iniziativa che denota un malinteso spirito delle istituzioni così come le chiedo formalmente quando le ha fatto la manifestazione in cui ha raccontato questo fatto un sacerdote dell'associazione libera Don Cassano ha definito criminale il ministro dell'interno Piantedosi che lei oggi ha citato positivamente siccome non credo che il ministro Piantedosi sia un criminale non mi risulta che lei poi su quel palco abbia interrotto quello sciagurato che ha detto questa vicenda che non è stato oggetto di iniziative penali perché il ministro dell'interno ha ritenuto di non dover querelare un prete insomma dovrebbe essere la chiesa su ordine gerarchico a spiegargli chi sono i criminali o meno lei non ha preso le pubbliche distanze da questa vicenda all'occasione per farlo si chiama Don Cassano non è il calciatore il prete e ha detto una cosa sconcertante una manifestazione pubblica autoassolutoria che a me è sembrata così di stampo quasi così somozista concludo dicendo che francamente ci sono anche delle coincidenze la sua gestione ha determinato molti passaggi politici per cui alcuni hanno fatto passaggi politici io ho constatato a volte che alcuni passaggi politici poi sono stati seguiti da delibere della regione sulle masserie o su altre cose qualche volta qualcuno che è passato con le sue fila poi ha avuto lo sblocco di qualche pratica dalla regione di finanziamenti illeciti legittimi di pratiche che giacevano che poi appena quello ha cambiato orientamento la pratica si è sbloccata e qui parlo della regione infine su Pisticchio non mi ha convinto lei è un indovino perché imporre quella decisione a poche ore dall'arresto io sono convinto che lei sapesse di quella decisione e l'audizione segretata del procuratore di Bari mi ha convinto moltissimo io ho capito molte cose di questo link di questo è segretata non posso dire ma io sono uscito con le idee chiarissime dall'audizione segretata del procuratore di Bari e mi ha chiarito anche la profezia su Pisticchio mi consenta quindi la sua versione è inaccettabile prego presidente allora io quindi vengo richiesto se ho capito bene di dare un mio punto di vista sulla vicenda dell'AMTAB è così? di dare un mio punto di vista sulla sulla condotta di Don Angelo Cassano durante la manifestazione anche eventualmente prendendo le distanze da lui sulle dichiarazioni sul ministro Piantedosi e poi mi ha chiesto se qualcuno ha avuto uno sblocco di pratiche dopo essere transitato politicamente eh? ho capito allora per quanto riguarda l'AMTAB c'è anche una domanda era un commento non era una domanda allora ovviamente la vicenda AMTAB che riguarda me risale al 2011 quindi non ho un solo a conoscenza di fatti diciamo più più recenti ho raccolto qui alcune carte e posso dirvi che con nota di protocollo 63 257 del 14 marzo 2011 il direttore generale del comune allora era Vito Leccese che è l'attuale candidato sindaco mi riferiva di avere incontrato nel giorno precedente il presidente dell'AMTAB SRL durante l'incontro Antonio Di Matteo mi era presentato con viva preoccupazione in una situazione allarmante rispetto a episodi di malcostume e malversazione che interessano la sua azienda in particolare con riferimento alla malversazione denunciata il presidente ha più volte fatto riferimento ad episodi specifici che hanno riguardato le procedure di individuazione di soggetti esterni all'azienda per i servizi della certificazione di qualità e del medico competente con annessi servizi di carattere sanitario per la tutela della salute dei lavoratori oltre ciò a detta dello stesso presidente l'azienda sarebbe interessata da un incremento di furti di gasolio e di pezzi di ricambio il presidente mi ha comunicato di aver interessato i carabinieri per avviare opportune indagini non mi è stato possibile capire in che modo e con quali forme siano stati interessati i carabinieri inoltre il presidente ha consegnato le risultanze di una commissione di indagine interna sull'incidente occorso il 24 febbraio scorso l'autobus individuato dal numero sociale 7045 alla luce di quanto ascoltato ritengo indispensabile avviare una procedura di verifica amministrativa ed interessare formalmente l'autorità giudiziaria in pari data io scrivevo nella stessa data si avvii immediatamente la verifica amministrativa e si richiede incontro al procuratore della repubblica per informarlo dei fatti Bari 14 marzo 2011 dopodiché il 15 marzo con nota di protocollo 65 573 scrivevo a mia firma costituivo una commissione d'indagine nell'esercizio del cosiddetto controllo analogo vista la nota del direttore generale 63 257 del 14 marzo 2011 si ritiene opportuno sentito il direttore generale costituire una commissione per la verifica degli episodi denunciati così composta presidente della commissione segretario generale dottor Mario D'Amelio componente della commissione direttore di ripartizione mobilità urbana ingegnere paticchio componente della commissione capitano pizzuto massimo ripartizione polizia municipale segretario della commissione dottoressa Cristina di perro gli atti in possesso della direzione generale saranno consegnati in via riservata al presidente della commissione la commissione vorrà relazionarmi in merito ai riscontri effettuati entro il 28 marzo 2011 quindi a stretto giro il precedente ehm anzi chiedo scusa il segretario generale il dottor D'Amelio in data 11.4.2011 con protocollo 88.303 ehm trasmetteva gli atti della commissione d'indagine amministrativa sulla società in house amtab costituita con provvedimento del sindaco di Bari 65.173 del 15.3.2011 si trasmettono in allegato i verbali delle sedute del 21.3 del 31.3 del 4.4.2011 della commissione d'indagine amministrativa sulla società in house amtab S.P.A. costituita con provvedimento del sindaco di Bari di cui sopra stante la possibile rilevanza penale di alcune dichiarazioni e circostanze rappresentate a questo punto il 30 giugno eh alla scadenza del presidente precedente con nota di protocollo 16 11.79 del 30 giugno 2011 ehm eh si trasmetteva al direttore dello staff delle società partecipate e al vice sindaco eh la nomina del provvedimento provvedimento di nomina del dottor Michele Lepri di Gallerano che era un ex prefetto che era stato nominato eh amministratore unico di Amtab S.P.A. per un periodo temporaneo proprio al fine di approfondire i fatti di cui sopra eh infatti il provvedimento che è il 15 91 97 del 28 giugno 2011 era intestato nomina straordinaria e temporanea amministratore unico di Amtab S.P.A. il provvedimento mh vi trascuro diciamo le parti meno rilevanti vista l'eccezionalità della situazione eh nomina quale amministratore unico il dottor Michele Lepri di Gallerano nato a Napoli il 27 945 prefetto a riposo in via straordinaria e temporanea per la durata di sei mesi il eh il prefetto in questione eh mi trasferiva eh una nota relativa a varie situazioni e in data 21 luglio 2011 con noto di protocollo 17 99 66 questa nota eh questa nota veniva trasmessa al dottor Antonio Laudati che era il procuratore distrettuale antimafia di Bari che quindi veniva eh informato di tutto quello che gli abbiamo riferito sin eh dall'epoca la nota è eh allegata ve la ve la leggo facendo seguito a quanto richiesto mi evidenzio le posizioni dei candidati Leonetti Liberti e Parisi questo è particolarmente importante perché il Parisi di cui si parla credo sia lo stesso Parisi eh che è venuto alle cronache di recente parliamo di una nota del 19 luglio del 2011 mandata alla procura della Repubblica in relazione alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di operatori di esercizio di operatori di manutenzione bandita dall'amta bil 15 5 2009 preliminarmente opportuno chiarire per la partecipazione alla selezione erano richiesti una serie di requisiti ai candidati era soltanto chiesto di dichiarare una domanda di partecipazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso per quanto attiene la presente si precisa che il requisito richiesto era di non aver subito condanna pena detentiva per delitto non colposo o di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione l'espletamento del concorso era stato affidato nella prima fase ad una società esterna specializzata in ricerca e selezione personale che ha provveduto alla valutazione dei titoli e solo di alcuni dei suddetti requisiti in particolare l'aver già prestato servizio in azienda e il possesso di carte di qualificazione conducente titolo di studio stato di inoccupazione o disoccupazione alla somministrazione e la valutazione dei test e a risposta multipla nonché l'elaborazione dell'elenco degli ammessi alla prova pratica la prova pratica di guida è stata espletata alla commissione esaminatrice nominata successivamente dal consiglio di amministrazione dell'AMTAB che ha provveduto all'esito della selezione a stilare graduatoria definitiva la graduatoria finale degli doni della selezione avrà valedità 36 mesi dalla data di approvazione della delibera del consiglio di amministrazione sarà utilizzata per la copertura di tutti i posti di operatori che si renderanno disponibili procedendo alle nomine secondo l'ordine decrescente dei punteggi finali conseguiti sia per eventuali assunzioni a tempo indeterminato che a tempo determinato la commissione esaminatrice prima di avviare l'iter della prova pratica dei candidati ammessi alla stessa provvedeva ad esaminare le dichiarazioni rese dagli stessi in sede di autocertificazione di seguito ai controlli effettuati sulle documentazioni relative alle domande di partecipazione alle selezioni di quell'oggetto e su quelle pervenute di ogni candidato relative ai certificati di castellare giudiziario e ai carichi pendenti delle procure della Repubblica interpellate le commissioni esaminatrici delle selezioni evidenziavano e proponevano al consiglio di amministrazione del LAMTAP che condivideva quanto segue per quanto attiene i seguenti candidati sono stati evidenziati i seguenti pregiudizi Leonetti Antonio lesione personale ingiurie Liberti Giuseppe porto illegale di armi eccetera eccetera Liberti aveva un bel avverso le esclusioni i candidati promuovano le seguenti azioni giudiziarie ricorso straordinario al Presidente della Repubblica istanza di trasposizione al TAR di Puglia sentenza TAR il difensore aziendale l'avvocato Vito Aurelio Pappalepro ed occorre dare il nuovo mandato al benissimo legale per la costituzione dell'azienda di giudizio il candidato ha comunque commesso di fare menzione del procedimento andiamo avanti per quanto attiene questa è la cosa che interessa di più per quanto attiene la posizione del signor Parisi Massimo si precisa che con raccomandata che giunge al destinatario il giorno successivo alla spedizione il candidato era stato convocato per il giorno 11 maggio 2010 alle ore 8 al fine di sostenere la prova pratica della selezione pubblica in esame dalla ricevuta di ritorno della suddetta comunicazione risulta che la medesima è stata ritirata il giorno 10 maggio 2010 il giorno 11 maggio il candidato non si è presentato per sostenere la prova pratica in esame senza durre alcuna giustificazione pertanto è stato considerato rinunciatario il giorno 31 maggio ultimo scorso è pervenuta nota datata 12 maggio 2010 a firma della consorte del candidato con la quale è stato dichiarato che in data 11 corrente mese è stata recapitata la lettera di convocazione per la prova selettiva di operatori inviatami in data 10 corrente mese in questo periodo mio marito è impossibilitato a presentarsi e le chiedo per cortesia la proroga della data per la prova in questione nella stessa giornata del 31 maggio ultimo scorso alle ore 12 e 30 la segretaria della commissione esaminatrice la signora Anna Rao ha contattato telefonicamente il dottor Nicola Covella presidente della commissione che ha dichiarato l'accogliabilità dell'istanza suscitata purché firmata dal diretto interessato successivamente alle ore 12 e 45 tale circostanza è stata riferita telefonicamente alla residenza del candidato da parte della presidetta signora Anna Rao alla quale è stato replicato che sarebbe stata ricontattata nell'arco della stessa giornata nessuna comunicazione però è pervenuta la sede AMTA BSPA entro la fine della giornata lavorativa con nota datata 4 giugno 2010 indirizzata al dottor Nicola Covella in qualità di presidente del consesso in questione la consorte del candidato ha dichiarato che il marito è ancora impedito a partecipare alla prova di cui tratti per motivi indipendenti dalla propria volontà chiede che possa essere stroposta la suscitata prova non appena gli sarà consentito anche se il concorso dovesse essere esaurito nella medesima giornata il 4 giugno 2010 è stata svolta l'ultima sessione del concorso più volte citato il candidato ha proposto ricorso verso l'esclusione prima dinanzi al Tare poi dinanzi al giudice del lavoro a seguito dell'esplicito invito del magistrato ad una conciliazione della lite il CDA si è determinato per la missione del candidato alla prova pratica e la commissione esaminatrice si è riunita in data 21 12 2010 per permettere lo svolgimento della prova pratica esclusivamente per il candidato Massimo Parisi ha messo a partecipare alla suddetta prova selettiva il signor Parisi ha quindi superato la prova pratica ed è stato inserito nella graduatoria finale e in data 26 2011 è stato assunto all'AMTA con contratto a tempo determinato per un periodo di tre mesi per le esigenze di copertura del servizio stante le ferie estive del personale inorganico con i migliori saluti la responsabile avvocato Camilla De Candia poi esiste agli atti di questa procedura un promemoria riservato che eppure è stato mandato alla procura della Repubblica nel 2011 che vi leggo se è ancora riservato non ce lo può leggere in seduta pubblica che sia riservato dal 2011 ma non ha scadenza il riservato diciamo glielo dico per lei nel senso che non ha scadenza un documento che è classificato come riservato lo può lasciare agli atti della Commissione se è riservato non lo posso lasciare neanche agli atti sì la Commissione può ricevere atti riservati e segretati ne abbiamo molti le assicuro l'atto più importante è questo che sto per leggere sì ma io non so che documento è se lei se ne assume le responsabilità io ho il dovere di dirle che gli atti riservati non possono essere letti in seduta pubblica Presidente mi scusi è riservato nel senso che è un prememoria del Presidente dell'amministratore unico a me quindi la riservatezza è una riservatezza d'ufficio non è non è una riservatezza giudiziaria bene ieri 12 luglio 2011 all'uscita dell'azienda intorno alle 19 19 e 30 mentre ero in macchina di ritorno a casa ho ricevuto una telefonata su cellulare e aziende da numero sconosciuto normalmente non rispondo a chiamate sconosciute ma essendo in macchina ho risposto meccanicamente dall'altro capo del telefono un tale mi ha detto grosso modo queste frasi lo zito è riuscito lo zito è riuscito ad entrare in azienda a Parisi e adesso anche l'ovreglio vuole essere sistemato in officina l'ho sistemato l'ho invitato a presentarsi senza nascondersi nell'anonimato o a fare eventuali denunce dicendogli anche di continuare a parlare augurandomi che la telefonata fosse intercettata immediatamente dopo l'anonimo ha chiuso la telefonata credo che si riferisca a queste due situazioni uno Parisi Parisi ha partecipato alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di donnei da cui attingere per future esigenze di autisti nel linguaggio del contratto collettivo di lavoro autoferro trambieri la qualifica di operatori di esercizi il Parisi è risultato idoneo alla selezione pubblica e si è sclassificato al 54esimo posto della graduatoria per sopperire alla carenza di personale ferie estive a seguito della richiesta del responsabile del movimento il CDA ha deliberato l'assunzione a tempo determinato per circa tre mesi di 43 unità attingendo dalla graduatoria della selezione pubblica previa visita medica di donità delle ferrovie dello Stato prevista dalle norme di settore l'ufficio personale ha operato nel senso indicato il Parisi è rientrato tra quelli assunti a tempo determinato per tre mesi contratto sottoscritto per il periodo 26 2011 18 9 2011 vi è da dire che tra le rinunce e inidoneità la visita medica dei soggetti inseriti in graduatoria convocate dall'ufficio personale è stato necessario da parte dello stesso ufficio personale farla scorrere fino al 116esimo posto per raggiungere il numero richiesto dal reparto movimento che ha la responsabilità di assicurare il trasporto pubblico della città Lovreglio Tommaso Lovreglio è un dipendente con contratto a tempo indeterminato con qualifica operatori di esercizio questo dipendente ha fatto richiesta in data 7 marzo 2011 di essere adibito ad una mansione interna per motivi strettamente personali questa richiesta è stata portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'Amtab nella seduta del 24 marzo 2011 che ha preso atto della richiesta ed ha autorizzato per l'eccezionalità e gravità della stessa il trasferimento del dipendente Lovreglio alla movimentazione interna dei mezzi aziendali per tre mesi si è data esecutività al deliberato del CDA estratto protocollo 66-06 del 3 maggio 2011 con assegnazione provvisoria di dipendente al reparto indicato per tre mesi scadenza 15-8-2011 negli ultimi tempi Lovreglio ha chiesto verbalmente di essere inserito nel reparto di cambi in quanto nel frattempo a far data dal 1 luglio 2011 si è creata la disponibilità di un posto inorganico nel magazzino di cambi a seguito di quiescenza e di un altro dipendente per raggiunti limiti di età la qualifica posseduta dall'Ovreglio non è compatibile con il magazzino ma è possibile assegnarlo provvisoriamente attivando contestualmente una selezione interna stante la disponibilità del posto libero per l'avvenuto pensionamento vabbè questi sono gli atti connessi insomma la sintesi di quello che vi ho detto che vi ho letto è che siccome fermo restando ovviamente che io non disponevo di altre notizie che queste cose sono a conoscenza della procura distrettuale antimafia di Bari cioè la presenza del fratello di Savinuccio Parisi capostipine della Sacra Corone Unita Bari il padrino di tutti i vari rami ma questo ovviamente lo sapete già il fatto che questo qui in qualche modo sia entrato nell'AMTAB è alla conoscenza dell'organismo competente sin dall'epoca ora io non so se qui sono state sviluppate indagini non sono state sviluppate quel che è sicuro è che il comune di Bari aveva percepito una situazione ovviamente capirete bene che in tutte le città dove c'è stata o c'è un'alta io direi più che altro c'è stata un'alta diffusione del fenomeno la Sacra Corone Unita a differenza della non so di Cosa Nostra o dell'Andrangheta è labor intensive cioè ha un numero di militanti enorme di familiari enorme e quindi praticamente sono ovunque parenti cognomi coincidenti eccetera eccetera quindi siccome ma per puro caso perché evidentemente adesso non ricordo i dettagli ma per puro caso avevo cognizione della gravità della presenza di Parisi Massimo in azienda noi abbiamo informato il procuratore distretto l'antimafia dopodiché senza iniziative da parte dell'autorità giudiziaria un lavoratore come tutti gli altri non poteva essere trattato in un'altra maniera cioè nel senso che non c'è stato verso persino il giudice del lavoro ha invitato alla conciliazione cosa che è avvenuta dopodiché si trattava di un contratto a tempo determinato non so cosa sia successo dopo probabilmente questo contratto a tempo determinato è stato trasformato in un contratto a tempo indeterminato qui abbiamo la storia di come è entrato e però è una storia nella quale il comune di Bari storicamente quindi in coerenza con quanto vi ho detto nella fase della mia introduzione si è comportato anche in questo caso le do così manca la seconda vero senatore di risposta no no chiedo scusa allora anche io non ho apprezzato la frase di Don Angelo Cassano assolutamente e devo anche dire che ho telefonato al ministro piante dosi per rappresentargli la mia il mio disappunto dargli quindi la mia solidarietà non l'ho fatto pubblicamente per le stesse ragioni per le quali il ministro non lo ha querelato perché si tratta di un prete e ho ritenuto opportuno devo dire probabilmente anche consultandomi ho ritenuto opportuno evitare qualunque tipo di ulteriore propaganda ad una frase assolutamente inopportuna devo dire che col ministro piante dosi io ho un rapporto assolutamente positivo si tratta di un ministro credo tecnico quindi non ho al di là della questione generale sulla della quale però non credo sia portatore direttamente come soggetto politico il ministro degli interni il ministro degli interni fa quello che il governo decide di fare e quindi non credo che possa essere identificato come un soggetto che ha atteggiamenti più o meno condivisibili sulla questione dell'immigrazione ma comunque non era neanche quella la sede giusta poi non mi risulta per quanto io possa sapere che ci siano persone che hanno avuto sblocchi di procedure a seguito di questo genere di passaggi di forza politica anche perché esiste nella nella regione come in tutte le regioni una netta distinzione tra indirizzo politico e gestione immagino che queste pratiche rientrino nella competenza dei dirigenti amministrativi non hanno mai coinvolto per quello che mi risulta la giunta non ne ho proprio coniezione grazie sentiamo provi a togliere il video no non mi sente provi a togliere il video tanto l'abbiamo vista ora ora mi sente ora meglio perfetto allora mi scuso intanto per questo inconveniente presidente Emiliano la prima cosa che voglio dirle io sarò molto sintetica e cercherò di essere anche molto precisa nelle domande è che personalmente ma direi diciamo che posso interpretare anche un sentimento vasto nella commissione non abbiamo apprezzato la sua diciamo discrezionale decisione di utilizzare i tempi che a lei sembravano più giusti per fare questa audizione creando peraltro diciamo una sorta di link politico tra la vicenda della sua sfiducia discussione sulla sfiducia in consiglio regionale e l'audizione in questa commissione che sono cose molto differenti e francamente diciamo istituzionalmente io non ho per nulla gradito il suo atteggiamento tanto più quando poi oggi lei viene in commissione e ci dice anche che cosa noi dovremmo fare nelle sue audizioni addirittura della propaganda rispetto diciamo alla sua attività incessante dal punto di vista del contrasto sui temi della mafia decideremo noi che cosa fare o cosa non fare del suo ragionamento in questa in questa audizione ma francamente che lei ci venga a dire che cosa dobbiamo dire esternamente da qua mi sembra diciamo che vada oltre anche la megalomania detto diciamo ciò detto che lei come dire evidentemente vuole utilizzare questa occasione diciamo per farci capire come dobbiamo esercitare il ruolo di commissari antimafia mentre io ritengo diciamo che a noi sia già sufficientemente chiaro come lo dobbiamo fare proverò a dirle come lo voglio fare io e cioè capire un po' meglio due questioni che dal suo ragionamento anzi tre questioni non sono per nulla chiare la prima lei ci ha detto ora in maniera molto perentoria che lei è sicuro sicurissimo che la sua regione che lei non è oggetto di vicende diciamo giudiziarie mi fa capire come fa a sapere questa questione in modo circostanziato perché è piuttosto singolare come dire che se lei avesse detto a mia notizia non sono oggetto di indagini avrei potuto capire ma lei l'ha detto in un modo differente cito testualmente quindi è certissimo di questo come fa a saperlo seconda questione io non ho francamente capito il motivo per il quale lei nella vicenda diciamo De Caro anziché rivolgersi alle autorità competenti ha deciso come poi lei ha raccontato e anche in questo caso cito testualmente di affidare l'allora assessore De Caro alla famiglia diciamo di di questo boss della mafia e il terzo tema che le pongo è nella vicenda Pisicchio lei continua a dire diciamo che come dire non era a conoscenza dei fatti che hanno riguardato Pisicchio però quando lei prima diciamo ha provato ad argomentare ciò ha detto sapevo che c'era un'inchiesta su Pisicchio avevo chiesto a Pisicchio se tutto era terminato come dire casualmente quel giorno in concomitanza diciamo con l'uscita di questa notizia lei chiede le dimissioni diciamo di Pisicchio quindi qualcosa deve aver saputo ci prova diciamo a far capire un po' meglio il suo ragionamento perché in questo diciamo così diluvio di parole che lei ha utilizzato per questa audizione io francamente i fatti circostanziati precisi e chiari non li ho accolti sarà un limite della mia intelligenza ma forse diciamo vale la pena ritornarci un po' sopra ed essere un pochettino più precisi la ringrazio allora innanzitutto è prassi credo di tutte le commissioni parlamentari e anche di questa concordare le date con gli auditi e quindi in tutta sincerità non avevo capito la ragione per la quale era così categorica la richiesta tra le segreterie che io venissi in una data precedente il dibattito con la fiducia sulla fiducia che si è svolto di recente in consiglio regionale ovviamente come si dice siccome conosco bene il contesto bugliese ed era già accaduto che in massa in occasione di altri eventi istituzionali completamente separati i deputati e i senatori pugliesi fossero andati dal ministro piantedosi per rappresentare il loro punto di vista ovviamente mi sono mi sono preoccupato di informare la presidente di un mio punto di vista cioè che il dibattito sulla fiducia di un presidente della regione è delicato va possibilmente con la collaborazione delle altre istituzioni garantito nella sua serenità e sottratto alla pressione mediatica della quale vi ho già detto nella quale si è creata una confusione pazzesca nella quale probabilmente c'era il rischio che qualcuno interpretasse la richiesta della fiducia come se io fossi interessato dalle indagini in corso poi vieni convocato dalla commissione antimafia come se fossi coinvolto nelle indagini in corso e ho scritto una riservata perché non l'ho resa pubblica alla presidente in cui ho detto ho chiesto alla presidente voi l'avete vista l'avete letta in cui ho chiesto alla presidente per favore possiamo tenere distinti questi due momenti in modo da garantirli entrambi perché questo ovviamente questo mio ragionamento questa è una mia convinzione valeva anche a contraris cioè nel senso che come garantiva la serenità del consiglio regionale garantiva anche la serenità dell'audizione perché se lo scopo dell'audizione come voi mi avete detto è quello di avere da me collaborazione informativa ai fini della migliore qualità dell'attività della commissione antimafia perché questo mi è stato detto è evidente che la data esatta in cui io devo venire a fare questa collaborazione peraltro la presidente ha chiarito che si tratta di un'audizione libera e non di una testimonianza io non lo so se la senatrice o senatrice Paita conosce la differenza tra un'audizione libera e un'audizione testimoniale in commissione antimafia io la conosco sicuro e quindi io davo per scontato di poter stabilire come è sempre avvenuto con tutte le commissioni ferme restando ragioni istruttorie della commissione antimafia perché se la commissione antimafia mi avesse detto come è successo con altre commissioni noi dobbiamo fare una relazione entro la data del quindi tu devi venire prima o dobbiamo riferire o dobbiamo dare il nostro parere su un provvedimento legislativo entro questa data è chiaro che devi venire prima non avrei detto una parola ma siccome non c'era una data non c'era un evento che determinava la necessità tant'è che moltissime audizioni verranno dopo la mia anzi io credo di essere su queste cose uno dei primi il terzo se non mi ricordo male quindi non c'era tutta questa urgenza e quindi è evidente che ho cercato in maniera garbatissima credo di significare non ho neanche fatto commenti pubblici non ho detto una parola anche devo dire nonostante il fatto che qualcuno mi dicesse che stavo scappando che voleva fare che io avrei fatto l'audizione a casa della sorella del boss cioè la commissione antimafia quando sente qualcuno e lo sente liberamente il che vuol dire anche detto proprio chiaro chiaro che uno potrebbe anche non venire e quella persona ti dice guarda che io sono disponibile posso venire ti prego per favore però l'esigenza non di fare una cosetta qualunque ma di affrontare il dibattito sulla fiducia che rischia di far teoricamente cadere una regione io penso che io mi debba aspettare una collaborazione istituzionale tutto qua poi dopodiché il caso ha voluto che la fissazione d'ufficio chiedo scusa la fissazione d'ufficio della data perché come si dice è una frase che diciamo noi pugliesi Cristo è grande perché mi avete fissato la data di prepotenza diciamo così tra virgolette simpaticamente di prepotenza il 2 giusto? ed è andata a finire che io quel giorno già onestamente lo sapevo ho dovuto sostituire nel presiedere la conferenza delle regioni il presidente Federica che era fuori quindi quando ho letto che la liturgia della conferenza delle regioni consisteva nel mandare un delegato alla conferenza delle regioni ho strabuzzato gli occhi cioè io non lo so qui come funziona ma la conferenza delle regioni è una cosa seria ed è una cosa dove in linea di principio se un presidente non ha altri impegni istituzionali importanti ci va aggiungiamo che essendo io il vice presidente della regione della conferenza delle regioni e quindi dovevo sostituire e ho sostituito il presidente titolare e quindi ovviamente ho fatto presente che avevo un impedimento ora a me tutto questo equivoco consideratelo superato per quanto mi riguardi nel senso che è andata come è andata chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato però in quella vicenda che io mi devo ritirare a casa come sempre noi diciamo con un disappunto da parte della commissione antimafia perché ho cercato come tutti gli auditi di individuare una data più utile e più compatibile con i miei impegni istituzionali mi sembra troppo senatrice Paita addirittura lei mi accusa oggi di fare propaganda e di essere megalomane ma intendiamoci mi avete convocato per che io dia un contributo al vostro lavoro o per altre ragioni perché se mi avete convocato per altre ragioni essendo un'audizione libera come le dovrei rispondere cioè mi metta a fare polemica come se fossimo in un talk show oggi non me lo posso permettere non è il mio ruolo e non lo farei mai quindi io non le posso rispondere io non mi sono mai permesso di dire alla commissione antimafia come dovete esercitare il vostro ruolo ci mancherebbe ho solo detto che sono disponibile a fornire dal punto di vista della strategia dell'antimafia sociale tutto il contributo che sono in grado di dare per fare in modo che questo sistema che in particolare nella città di Bari e in Puglia ha funzionato perché questo sistema possa essere valutato e se del caso adottato sia da leggi nazionali e credo che questo sia sicuramente un vostro compito quello di proporre legislazione che a moderni renda più funzionale il sistema dell'antimafia e ho detto di essere a disposizione per ogni genere di collaborazione in questo senso come faccio a sapere io di non essere oggetto di indagini e punto è proprio quello che mi chiedo io io so che nelle indagini che sono state rese pubbliche quelle di cui si discute e quelle sulle quali si è creato un caso Bari che ha tenuto manco facendo la concorrenza alla guerra in Ucraina e agli scontri di Gaza per un mese perché così è andata molti soprattutto le persone più vicine mi telefonano per dire ma che hai combinato cioè che è successo com'è possibile una cosa del genere in quelle indagini la regione Puglia come istituzione non è coinvolta cioè anche l'assessore che è sottoposto a indagini è sottoposto ad indagini per l'attività del marito nella quale si sta verificando se l'assessore sia stato coinvolto o meno voglio anche precisare che l'assessore che si è dimesso spontaneamente era oggetto se non non ho capito male era oggetto di richieste particolari del pubblico ministero che non sono state accolte cioè uno dei pochi punti sui quali non c'è una gravità indiziaria è proprio quello che riguardava l'assessore quindi in teoria aveva avuto un giudizio da parte del giudice terzo assolutamente positivo sulla insussistenza degli elementi cioè nonostante si è dimessa lo stesso dopodiché la regione Puglia non ha organi di indirizzo politico coinvolti nelle indagini di quelle che hanno di cui si è parlato in cronaca poi se ci siano altre indagini non lo so e questo ovviamente non sono in grado di dirlo poi ho già chiarito la frase che ovviamente potevo dire meglio su questo non c'è dubbio la frase che ho detto dal palco la potevo dire meglio questo si è capito da quello che ho detto prima non sono così megalomane o protervo da non ammetterlo d'altra parte ho cercato di farvi calare nel contesto per spiegarvi il significato di quella frase che ripeto chi le ha vissute quelle cose meno male mi ha fatto grazia e le ha capite chi non ha vissuto quel periodo probabilmente le ha fraintesi io mi auguro di aver chiarito ogni passaggio sulla questione Pisicchio ho già risposto ora questa è una mia valutazione quindi non vale niente quello che sto per dirvi ma nel momento in cui per ipotesi avessi saputo della casualità temporale probabilmente non avrei assolutamente revocato l'incarico non so se è chiaro perché la dimostrazione che non sapevo nulla è proprio il fatto che ho fatto la revoca perché altrimenti non avrebbe avuto né senso né significato però questa è una valutazione quindi non ho riferito fatti ho fatto solo una valutazione grazie grazie voi capirete che io non intendo tornare sulla questione delle date quindi non intervengo segnalo solo il fatto che la lettera non è stata certamente resa pubblica da quest'ufficio che invece l'ha portata semplicemente come di suo dovere in ufficio di presidenza visto che non per motivazioni politiche ma per scelta dell'ufficio di presidenza la sua audizione era stata calendarizzata e questo è il motivo per cui la segreteria della commissione le ha proposto cinque date e ho iscritto il senatore Cantalamessa sì grazie presidente grazie presidente per la sua relazione io le faccio presente solo che il discorso in merito alle date apro e chiudo una parentesi il fatto che si chieda un'audizione libera e si danno cinque date ad un audito e l'audito dice non posso in nessuna le cinque diventa un precedente antipatico che potrebbe portare la commissione a aumentare le audizioni testimoniali e non libere le libere è una moral situation di collaborazione con alcuni soggetti istituzionali o meno però quando vengono rappresentate cinque date vengono rifiutate tutte e cinque è un precedente nello specifico non essere un dato importante ma può diventare per le volte successive perché chiaramente è un precedente dal quale potrebbero rifarsi altre auditi liberi e potrebbe comportare alla commissione il compito di aumentare le audizioni testimoniali per evitare che questa cosa si ripeta lei ha fatto riferimento più volte alle battaglie dello Stato nei confronti diciamo delle mafie e sicuramente questo vale per la Puglia ma vale per i racconti che lei faceva di Bari valgono per Palermo valgono per Napoli io sono napoletano come posso dire lo Stato è riuscito a sestare tanti colpi alla criminalità organizzata di qui a far passare che determinati problemi non esistono più io credo sia un errore uno perché abbiamo delle evidenze che pochi mesi fa sono state arrestate 150 persone in Puglia e due perché come lei sa benissimo le mafie stanno cambiando faccia rispetto agli episodi tragici che rappresentava successi in Puglia ma che sono successi voglio dire di morti innocenti anche ragazzini che sono successi a Napoli a Palermo questi fenomeni fortunatamente stanno diminuendo non solo perché come posso dire lo Stato sta riuscendo a sestare dei colpi importanti ma a volte anche perché sta cambiando fascia e fa fatturato i PIL in altre maniere e altra premessa e poi vengo alla domanda il combinato disposto della della frase che lei ha detto e ho apprezzato il fatto che l'ha trovata diciamo quantomeno infelice dell'affidare e non dell'esigere rispetto unito alla mancanza della denuncia per il fatto accaduto anche quello è un brutto precedente e sto parlando a una persona che è uomo delle istituzioni e non può non cogliere il senso costruttivo della critica che le sto facendo perché il combinato disposto della mancata denuncia con quella frase detta su quel palco diventa un esempio e un modello negativo il senatore Casparri prima parlava dell'aspetto pedagogico che non può sfuggire proprio a una persona della sua levatura vengo alla domanda nel 2020 in qualità di presidente della regione lei nominò un altro magistrato del tribunale civile di Trani Elio Molfetta quale presidente dei collegi di disciplina delle aziende di grasporto poiché secondo quanto avrebbe dichiarato lo stesso magistrato nominato le società partecipate avevano difficoltà nel licenziare alcune persone vicino al clan lei era al corrente di queste difficoltà incontrate nella gestione del personale delle partecipate ha avuto modo di parlare con il magistrato nominato può spiegare perché lo stesso tuttavia non è stato autorizzato dal CSM a svolgere questo incarico grazie allora quindi se ho capito bene io dovrei nell'ambito del tentativo che ho fatto credo di essere stato esaustivo ci ho detto ho nelle date 7, 8 e 9 c'era il rischio anche della prosecuzione del dibattito sulla fiducia non posso venire il 2 avevo la conferenza delle regioni che era l'altra data quindi la prossima volta mi devo fare carico di evitare di costituire un precedente che consenta ad altri di sfuggire all'autorevolezza della commissione io sinceramente in spirito di collaborazione le alle collaborazioni sono disposto a qualunque cosa per collaborare con la commissione antimafia quello che deve essere però reciproco è che la commissione antimafia deve collaborare perché io possa svolgere il ruolo di presidente nella mozione di sfiducia e di vicepresidente della conferenza delle regioni quando la devo presiedere quindi onestamente non me ne sento carico non ho mai detto che i problemi non esistono più ne sono assolutamente consapevoli anche se la loro intensità è fortemente diminuita poi non so cosa questa è la mia percezione poi può darsi che il procuratore ieri vi abbia dato notizie diverse e vi abbia raccontato una diversa storia quel che è sicuro è che è una città intimidita impaurita senza stima di sé con la 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 insicurezza sul proprio ruolo nella storia nelle vicende nell'economia nella nella cultura che era quella che c'era vent'anni fa oggi è la regione che negli ultimi due anni e mezzo ha avuto l'incremento del PIL più alto d'Italia e ora è chiaro che il PIL non misura la mia efficienza ci mancherebbe però normalmente se il PIL è basso una società vuol dire che è in crisi se una società non è in crisi quantomeno non abbiamo fatto danni insomma e devo dire che alcune misure che sono state adottate dalla regione Puglia durante il covid sono state giudicate di sostegno economico sono state giudicate dalla Confindustria come le migliori d'Italia quindi diciamo che noi viviamo l'ottimismo della realtà senza però perdere la prudenza perché lei ha visto che apparato per quelle che sono le competenze politiche che apparato di antimafia sociale abbiamo messo insieme cioè non avremmo investito tutti i soldi che abbiamo investito non avremmo dato vita alla fondazione alla commissione antimafia se non avessimo timore del ritorno del passato perché quello era un passato orribile dove ripeto i politici discutevano a Bari se la mafia esisteva o non esisteva e noi stavamo in procura con il sindaco che diceva ripeto persone che stimo e della quale ho tantissimo affetto che però si era convinto pure lui nel contesto in cui vivevamo che in realtà non c'era un'organizzazione criminale poi è chiaro che su questo punto le discussioni con quest'uomo straordinario sono state intense anche private in cui dice ma tu perché dicevi una cosa del genere perché le informazioni di cui disponeva e il contesto nel quale era inserito gli facevano pensare che l'unica soluzione al problema mafioso della città di Bari fosse quello di distinguerlo da quello della Calabria della Sicilia o della Campania io vedo che lei è esperto e quindi mi addentro questo è un vizio che derivava dalla sentenza se non mi ricordo del 24 ottobre del 1989 del Tribunale di Bari la prima sentenza sulla sulla Sacra Colonna Unita che di fronte alla prova documentale dell'esistenza dell'associazione perché furono sequestrati gli atti fondativi giuramenti una sentenza il Tribunale non so per quale ragione fece un ragionamento giuridicamente diciamo non condivisibile nel quale disse siccome la Sacra Colonna Unita non assomiglia né alla Camorra né a Cosa Nostra non è un'associazione mafiosa e questo ovviamente ha determinato la cultura della sottovalutazione quella sentenza il fatto che furono scascerati quasi tutti perché furono condannati credo per associazione semplice nel giro di meno di un anno adesso mi perdonerete perché il fact il fact checking potrebbe farmi fare ma nel giro di meno di un anno dalla sentenza furono ammazzate almeno 20 persone degli imputati di quel processo e noi abbiamo continuato a pensare che noi stavamo potevamo stare tranquilli in Puglia perché tanto non eravamo né camorristi né appartenenti a Cosa Nostra né il problema è che il 416 bis che è una norma incredibile perché ha dietro un'intuizione fantastica il 416 bis è un metodo e non una storia anche se ha bisogno di una storia perché quel metodo diventi un reato che è una cosa veramente straordinaria io ovviamente avrei rimpianto di non aver mai conosciuto Piola Torre perché sinceramente sarei stato curiosissimo anche il fatto che sia l'unico reato associativo che sussiste anche se l'associazione non ha lo scopo di commettere reati è chiaro che un passaggio così dimostra la raffinatezza del sistema repressivo delle mafie non è un caso che anche l'antimafia sociale nasce da Falcone da Borsellino da Donciotti e che voi rappresentate la summa massima diciamo della capacità dello Stato la storia di questa commissione è incredibile io l'ho incrociata tante volte nella mia vita presieduta da vari presidenti ed era un'audizione alle quali noi magistrati ci preparavamo come ad un esame perché la qualità di questa commissione era veramente straordinaria che alle volte non riuscivamo a capire come facevate a sapere già prima le cose che noi stavamo per dirvi perché e quindi è chiaro che questo patrimonio è un patrimonio molto importante e quindi mai mi sarei sognato di mancare di rispetto a questa commissione proprio per la storia che ho che ho vissuto assieme a voi sono stato anche consulente della commissione antimafia molti anni fa non non in distacco perché non riuscivo a smettere di lavorare però ero di quelli a gettone non so eh eh novantasette novantotto non lo so adesso non ricordo bene la data eh gettonista va bene ehm allora la storia del dottor Molfetta e lei ha letto un articolo sulla gazzetta che è distorsivo diciamo eh e ove voi chiamaste il dottor Molfetta vi potrà chiarire assolutamente la storia è molto più semplice è una commissione di disciplina che eh nei trasporti se non mi ricordo male che eh deve potrebbe essere presieduta da un magistrato o da altro soggetto di simile professionalità ovviamente incarico assolutamente gratuito io nomino il dottor Molfetta che non conoscevo perché era l'unico che aveva dato la disponibilità lo nomino perché c'era il problema di licenziare delle persone non dei licenziamenti di persone legate ai ai clan però non si poteva licenziare nessuno senza quella commissione il CSM per ragioni non lo so che non posso ovviamente lei mi ha chiesto di dire come mai non lo so perché la legge istitutiva di questa commissione indica i magistrati come possibili incaricati però poi il CSM ovviamente è libero di non dare e quindi il dottor Molfetta non ha avuto l'autorizzazione e noi abbiamo nominato un'altra persona dalla quale onestamente non ricordo il nome e credo che tutto sia andato a regime Sì ho iscritto se mi sente l'onorevole Pittalis e poi si prepara Orlando ecco mi sentite sì sì grazie presidente ma anche io ringrazio il presidente Emiliano ho ascoltato la sua relazione che mi pare abbia diviso poi in due parti di una parte nel mettere in evidenza il suo ruolo di magistrato e voglio tornare anche proprio perché ne ha parlato lui a quel ruolo e cioè perché la normativa vigente limita come noto non tanto l'elettorato passivo ma l'attività politica dei magistrati in servizio e quindi la domanda che io formulo ripeto proprio perché ha parlato lui stesso di quel suo ruolo se lei presidente Emiliano è mai stato sottoposto a procedimenti davanti alla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura e in caso affermativo se ci può spiegare per quale motivo e con quale esito per quanto riguarda poi il ruolo la parte della relazione relativa al ruolo di presidente ecco ci sono alcune questioni ma ne cito solo una tra le tante sulle quali avrei voluto soffermarmi perché apprese da organi di stampa evidentemente e quindi chiederei al presidente Emiliano perché ne ha l'occasione di chiarire intanto se è vero che cinque giorni prima di una tornata elettorale sono state convocate 203 persone in un teatro di Taranto per sottoscrivere un contratto di internalizzazione in sanità service e se non le pare che ecco un'attività di questo genere può alimentare verso quella opinione pubblica proprio che mi pare vada in controtendenza rispetto a quelle finalità che le iniziative di cui lei ha parlato possono insomma in qualche modo confliggere questo lo sottopongo alla sua valutazione e volevo chiedere appunto l'abbiamo persa onorevole volevo chiedere appunto ecco volevo chiedere appunto una sua valutazione sul punto terza e ultima domanda proprio per i poteri che sono attribuiti a questa commissione le chiedo in maniera molto diretta se sul suo telefono lei conserva ancora o vi sia comunque ancora traccia degli sms scambiati con pisicchio grazie allora ma io devo rispondere sui miei procedimenti disciplinari del csm io lo posso ribadire ma per evitare che vadano che vengano rifritte cose di molti anni fa che non sono positive perché ho avuto ho avuto un provvedimento ma devo stare a rivangare una storia del genere non lo so lo chiedo alla presidente se come si dice la domanda è coerente ammissibile o se veramente va bene comunque se la presidente mi dice di rispondere io rispondo non c'è nessun problema anche perché sono tutti atti pubblici le domande sono sempre legittime perché le decidono i commissari come le risposte presidente se lei non vuole rispondere non risponde non posso stabilirlo io diciamo il senatore conosce benissimo la storia perché altrimenti non me l'avrebbe chiesta è solo per farmela dire in pubblico quindi non lo so se è questo lo scopo della commissione se è questo eh? il ruolo dei magistrati non è strano alla materia della commissione scusate però senatore non mi piace questa botta risposta così come non faccio la risposta non faccio parlare nessuno che non è in elenco e non interrompo nessuno già una volta ho chiesto di fare lo stesso quindi non vorrei ripeterlo grazie prego presidente e devo riferire tutto il fatto allora lo devo riferire dall'inizio cioè come è andata e siccome voi il vostro tempo immagino la domanda è quella lei valuti la risposta non è che io le posso suggerire la risposta io sono andato in aspettativa per mandato elettorale nel anzi mi sono messo in aspettativa per mandato elettorale nel 2004 nel 2004 ho cominciato il mio mandato da sindaco ero all'epoca stato tra virgolette eletto con una lista civica perché le elezioni di Bari videro questa lista civica avere un risultato molto molto importante se non mi ricordo male elesse o 11 o 12 consiglieri comunali quindi si chiamava lista emiliano ora è chiaro che in teoria sin da quel momento anche perché la lista emiliano era un soggetto politico sin da quel momento io ero un magistrato in aspettativa per mandato elettorale e non c'è dubbio che esista il diritto per un magistrato di candidarsi ovviamente con l'obbligo di mettersi in aspettativa non retribuita e quindi io ho cominciato la mia attività politica perché fare il sindaco è un'attività politica dopodiché nel il 14 ottobre nel 2007 sono diventato il primo segretario del partito democratico della Puglia da sindaco di Bari e sostanzialmente ho sempre ritenuto che una leadership politica come quella del sindaco fosse diciamo dal punto di vista del prestigio della magistratura indifferente a causa del fatto ovviamente che la aspettativa e la rescissione sia pure temporanea nel rapporto di servizio determinata dall'aspettativa tenesse l'ordine giudiziario esente da ingiurie di tipo di immagine perché di questo stiamo parlando è la legge che vieta ai magistrati senza precisare se questo valga o non valga per quelli in aspettativa per mandato elettorale che vieta ai magistrati tucurdi di esercitare attività di iscriversi ai partiti pardon ecco io su questo punto ovviamente ho sempre pensato di lavorare nella mia attività di segretario regionale del partito al coperto diciamo della aspettativa per mandato elettorale non succede nulla per anni dopodiché se non mi ricordo male io mi candido nel 2017 alla segreteria nazionale del partito e allora succede tutto nel senso che improvvisamente la procura generale della Cassazione che non aveva mai né lo aveva fatto il procuratore generale di Bari né l'aveva fatto nessun altro né il ministro della giustizia Abciti di Udia Verbis cioè non credo che sia non era mai venuto all'attenzione di chi che sia una cosa del genere perché si dava per scontato che se uno può fare il sindaco e quindi essere eletto ed essere il leader politico addirittura di più partiti è evidente che lo può fare nella misura in cui è inaspettativa e se è inaspettativa nessuno può negargli il ruolo di direzione politica che è già sufficiente eventualmente in caso di rientro nell'ordine giudiziario a leggere l'immagine della magistratura e quindi onestamente nessuno si era posta la questione quindi per la prima volta nella storia d'Italia io sono stato oggetto di una procedura disciplinare durata molto tempo che arrivò all'attenzione del CSM diciamo un CSM piuttosto complicato diciamo per certi versi nella sua storia arrivò a quel CSM che lo rimise alla Corte Costituzionale cioè la vicenda era così controversa dal punto di vista giuridico che il CSM ritenne di rimettere la norma che la Procura Generale pretendeva fosse applicata a me alla Corte Costituzionale perché c'era un'incertezza sulla sull'esistenza del divieto di iscrizione ai partiti per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale grande come una casa anche perché ovviamente poi la Corte Costituzionale ha risolto il quesito ritenendo che la norma si applicasse anche ai magistrati in aspettativa per mandato elettorale abbiamo quindi svolto comunque il processo sostenendo la tesi della insussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie disciplinare nel senso che se addirittura il CSM era in dubbio sull'esistenza della norma l'applicazione di una sanzione disciplinare per quanto la più modesta che era stata richiesta dalla Procura Generale non sembrava però la vicenda poi si è conclusa e a questo più tali credo voglia arrivare sul fatto che una munizione me l'hanno fatta quindi la cosa non mi riempie di gioia perché lei deve immaginare che io ho vissuto in magistratura gli anni più belli della mia vita dal punto di vista della giovinezza ho avuto i figli che erano convinti che i carabinieri fossero a casa di tutti e quando andavano a casa gli amici dicevano ma com'è i carabinieri vostri dove stanno perché convivevano in questa maniera ho vissuto in caserma in macchine blindate giravo con una pistola sempre infilata nella cintura dei pantaloni e quindi sinceramente quell'ammunizione ancora mi brucia mi dispiace moltissimo di averla avuta anche se è indifferente e non ha nessun rilievo e quindi io continuo a pensare di non essermela meritata per tutte le ragioni che ho detto ma siccome mi volevate far dire questa cosa ve l'ho detta che mi hanno fatto un'ammunizione devo dire persino persino Davigo era un po' era un po' mortificato quel giorno nel senso che mi ha detto mi dispiace la legge è legge io ho detto non avevo dubbi che mi avresti risposto così però è una cosa che mi è dispiaciuta molto poi se è vero che cinque giorni prima delle lezioni al teatro di Taranto abbiamo firmato i contratti di internalizzazione del 118 è vero nel senso che io avevo condotto una battaglia durissima contro tutto il sistema pugliese che aveva il 118 affidato ad associazioni non meglio identificate alcune sicuramente di galantuomini altre molto meno perché dovete immaginare che la nostra lotta contro le cimici contro gli scarafaggi contro i mafiosi è una lotta a 360 gradi cioè tutti i luoghi dove si può creare un piccolo welfare senza controllo sono luoghi dove in teoria si possono alloggiare situazioni di malaffare e quindi pur consapevole che questo avrebbe aumentato i costi del bilancio annuale della sanità di circa 50 milioni di euro all'anno io decisi di trasformare il 118 della Puglia che era in mano ad associazioni e non ad un soggetto pubblico di internalizzare tutte queste ed è stata una battaglia lunga complicata perché dovevamo rispettare una serie di norme e alla fine di questa lunga storia sinceramente siccome era una battaglia proprio mia personale che peraltro i ragazzi e le ragazze conoscevano benissimo io ho fatto l'assessore della sanità per moltissimi anni effettivamente ho ceduto alla gioia di andare a festeggiare con loro il momento della firma di un processo che era cominciato anni prima e del quale io ero assolutamente l'unico protagonista quindi non avevano comunque nessun altro diciamo con cui festeggiare se non la persona con la quale avevano vissuto tutto questo quindi non ci ho visto onestamente nulla di male tutte le volte ci si chiede ma come ha fatto l'ultima volta nel 2020 Emiliano a vincere le elezioni se è questo il punto attorno al quale girano devo dire si gira un po' da tutte le parti in tutta sincerità io non so spiegarlo perché effettivamente l'ultima volta c'era una situazione molto complicata difficile venivamo dalla pandemia dopodiché però diciamo la vittoria finale è stata di proporzioni tali che cercare di giustificarla in altra maniera onestamente mi sembra un'operazione veramente impossibile nel senso che io credo di aver preso o il 6 o il 7% più della mia coalizione 110 mila voti più della mia coalizione al punto che ci sono stati problemi e cause tra i consiglieri e non credo che diciamo episodi come quello di cui stiamo parlando potessero determinare una una situazione politica come questa qui però se era questo il senso della domanda se l'ho capito bene se non era questo mi scuso sugli sms confermo quello che ho già detto e lo ribadisco grazie prego onorevole Orlando sì presidente io vorrei fare una piccola premessa alle questioni che vorrei porre cercando di riportare la discussione su quello che a mio avviso e a lettura della legge istitutiva di questa commissione credo dovrebbe essere il centro della nostra attenzione faccio questa premessa perché io ritengo io sono stato membro di questa commissione con presidenze diverse di segno diverso ma devo dire che mi preoccupa non poco la evoluzione che sta assumendo questa commissione o la involuzione a secondo del giudizio politico che si vuole dare perché quando io le pongo la questione della opportunità della domanda riguardo agli sms lei mi risponde ma vede queste sono questioni che essendo legate a dinamiche corruttive possono essere legate a dinamiche mafiose io me ne sto ma quando la domanda riguarda un procedimento disciplinare presso il CSM di un magistrato inaspettativa stento a vedere la connessione con la possibilità che questo procedimento in qualche modo abbia attinenza con la potenziale infiltrazione delle organizzazioni mafiosi nell'ambito delle istituzioni non vedo il nesso logico ancor meno io vedo il nesso logico rispetto alla questione della firma pubblica questione che può essere sottoposta a tutte le valutazioni di opportunità politica del mondo ma rispetto alle quali io non vedo nessun nesso con l'attività d'ufficio di questa commissione se questa commissione nella vulgata si trasforma in un luogo nel quale l'obiettivo principale diventa quello di screditare gli auditi lei capisce che un'evoluzione di questa commissione è ineluttabile e anche la partecipazione credo che qualche audito da ora in poi si farà accompagnare da un avvocato per rispondere io considero che questo sia un errore ma non per il presidente Emiliano che milita nel mio partito con il quale abbiamo avuto a volte idee coincidenti a volte no in quelle che ha militato nel mio partito con il quale abbiamo avuto opinioni spesso coincidenti talvolta no e eravamo persino contrapposti in quelle famose primarie del 2017 mi pongo il problema della funzione e del ruolo di questa istituzione colleghi e allora cercando di tornare al vuole che le rispondo no no perché non mi può rispondere perché è una valutazione politica permesso che non lo decide lei no no non mi può rispondere cioè certo mi può rispondere quello che vuole ma io mantengo questa opinione la domanda è la faccio io a lei quindi lei mi sta invitando a una censura dei commissari no io le sto 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 lei sa benissimo che ci sono che c'è un potere discrezionale del presidente lei mi ha detto qual è la sua politica io penso che sia una politica sbagliata perché se non c'è un indirizzo rispetto chiamiamolo così al core business della funzione di questa commissione questa commissione rischia di assumere un'altra funzione e di perdere quella che storicamente ha avuto lei si può anche assumere questa responsabilità credo che l'interpretazione della legge istitutiva lasci anche lo spazio perché lei faccia questo io lo considero un errore politico dopodiché la questione che invece voglio porre al presidente Emiliano è questa può tratteggiare sinteticamente una questione alla quale lei ha in qualche modo fatto cenno cioè come Bari dal punto di vista del tessuto economico produttivo in particolare Bari Vecchia si è venuta a modificare quale sono state diciamo le evoluzioni del tessuto anche dal punto di vista delle presenze turistiche dal punto di vista delle presenze commerciali e della rete dei servizi in quella realtà perché questo secondo me è un elemento di grande interesse per questa commissione casomai chiederei anche alla presenza di poter acquisire i dati presso la camera di commercio di questo fenomeno l'altro aspetto invece riguarda un altro tema che lei ha posto anche qui sempre dovrei diciamo così affrontare non dal punto di vista processual penalistico ma dal punto di vista politico lei ha fatto cenno a una dialettica che si era manifestata al momento della sua elezione riguarda la questione dell'interpretazione della presenza della criminalità organizzata a Bari e se le confesso anche ascoltandola che in qualche modo questo misunderstanding questa diciamo così interpretazione riduttiva è anche accreditata un po' da alcune cose che lei ha detto non perché lei abbia detto che non è pericolosa ma perché la ricostruzione di questa organizzazione parrebbe prevalentemente diciamo così in una dimensione un po' stracciona cioè fatta di parcheggi abusivi di spaccio di piazza di controllo diciamo del territorio soprattutto diciamo così delle realtà più sottoproletarie la questione che le pongo è questa mafia che si era sviluppata in dimensioni così importanti dal punto di vista economico stiamo parlando del monopolio sulla rotta dei Balcani di molti traffici di droga di contrabbando delle sigarette persino di armi questa mafia ha avuto relazioni con la borghesia e diciamo della città e in qualche modo questi rapporti hanno influito possono aver influito sul giudizio che una parte della città dava dal punto di vista riduzionistico della presenza della mafia perché mi pare che il punto politico che distingua oggi Bari se mi ha consentito anche alla luce delle cose che ha detto lei e che ha detto il procuratore Rossi non è tanto la presenza o la non presenza ma come dire la impossibilità oggi ad oggi fenomeno non necessariamente irreversibile della criminalità organizzata di stampo mafioso in quella realtà di orientare l'attività delle istituzioni oggi diciamo così il giudizio che mi pare sia stato raccolto in generale anche ascoltando il procuratore era quello di dire sì la mafia c'è ma non siamo di fronte a una città mafiosa la Bari che lei ha trovata era una città che era condizionata nelle scelte fondamentali dalla criminalità organizzata era influenzata o era diciamo sostanzialmente libera da questo tipo di condizionamento grazie è una domanda delicata devo rispondere con dei fatti non posso rispondere con delle opinioni allora per esempio tutta la rete dei parcheggi che poi è passata sotto l'Amtab prima che noi diciamo assumessimo la responsabilità della città di Bari erano in realtà una gigantesca rete criminale sulla quale le procure intervenivano sistematicamente con pochi mezzi perché il parcheggiatore abusivo è quasi impossibile da da reprimere anche se non è una cosa necessariamente de minimis perché ovviamente il parcheggiatore durante tutto il periodo in cui sta lì fa diverse cose non è detto che faccia solo il parcheggio quindi diciamo che una delle cose che noi avevamo trovato completamente fuori controllo erano tutti i parcheggi quindi man mano con molta pazienza abbiamo fatto assumere questo credo abbia continuato a farlo anche Antonio De Caro abbiamo assunto in capo all'Amtab la gestione dei parcheggi che non vuol dire che quando alle 8 finisce l'orario di presidio non ci sia ancora qualche parcheggiatore abusivo ma il fenomeno si è molto diminuito un altro fatto che io considerai gravissimo quando ero alla procura distrettore antimafia è il fatto che il figlio di Savinuccio Parisi tale Tommy Parisi che era un cantante neomelodico cantasse al concerto di Capodanno organizzato al Comune era una roba completamente sconcertante nel senso che non riuscivo neanche a immaginare certo le colpe dei figli non devono ricadere sui padri questa roba è complicata però siccome noi addirittura monitoravamo le radio neomelodiche perché c'era il rischio che all'interno delle canzoni che ovviamente il cui testo veniva adattato a seconda delle necessità fossero nascosti messaggi per i detenuti quindi ci siamo misurati anche in questo è evidente che il messaggio era completamente sbagliato nel senso che tra tanti cantanti possibili immaginabili andare a scegliere il figlio del fondatore della la Sacra Coronunità Pugliese c'è addirittura una data mitologica di fondazione che è la notte di Natale del 1983 dove i vari capi mafia delle varie province fondano e per Bari c'era Savino Parigi che indiscutibilmente è l'uomo più criminalmente più autorevole di tutta la città come confermato credo anche dall'ultima dall'ultima indagine poi dopodiché in tutta sincerità c'è stato il periodo gravissimo delle cosiddette case di cura riunite gestite da Francesco Cavallari credo che agli atti della commissione troverete moltissimo su questa storia e quello è stato diciamo un fenomeno molto preoccupante perché è la prima volta in cui un esponente della borghesia perché Francesco Cavallari era un agente di commercio una persona inserita ovunque alle sue feste come è noto andavano tutti compresi anche qualche magistrato e a un certo punto lui determina una situazione in cui assieme a un buco nella sanità pugliese di proporzioni gigantesche perché allora tutti i controlli che ci sono adesso non c'erano ma la cosa più grave è che all'interno di queste case di cura organizza una serie di assunzioni di soggetti criminali o parenti attraverso i quali poi reprime l'attività sindacale stiamo parlando degli anni fine anni 80 inizio anni 90 c'è addirittura un articolo 28 una sentenza su un articolo 28 del pretore del lavoro di Bari che si chiamava Marco di Napoli che è di fondamentale importanza perché descrive tutte le attività con le quali l'attività sindacale veniva repressa dalla presenza negli organici delle case di cura di esponenti della criminalità organizzata ovviamente allora non erano definiti tutti i ruoli di ciascuno però le violenze c'erano sicuramente poi ovviamente Cavallari aveva relazioni politiche importanti con tutto il mondo poi c'è stata anche un'operazione della direzione nazionale antimafia che lo ha riguardato dove devo dire dal punto di vista giudiziario poi finita con una soluzione generalizzata quindi non mi permetterò di perché poi i processi non sono solo intuizioni politiche sono poi cose intuizioni investigative sono poi fatti artigianali che bisogna fare con grande attenzione in quel processo fu collegato in maniera molto forte il livello politico con il livello criminale però ripeto le sentenze sono di assoluzione addirittura credo per insussistenza del fatto e quindi non posso citarle non sarebbe corretto da parte mia fermo restando che le indagini stanno lì e furono coinvolti di tutto politici di ogni di ogni risma devo dire forse in una maniera un po' esasperata e quindi quello è stato l'unico caso in cui ci fu un tentativo giudiziario di verificare se attraverso Cavallari si fosse creato quel cortocircuito tra le organizzazioni che si occupavano di contrabbando traffico d'armi spaccio di droga e il livello politico dopodiché io posso parlare per la diciamo per la storia antica sinceramente noi non abbiamo mai intercettato nella città di Bari un livello politico di coinvolgimento mafioso credo che la stessa cosa dovrebbe avervi detto il procuratore ieri se non un livello politico straccione cioè il livello politico straccione è quello credo evidenziato dall'ultima ordinanza dove dei personaggi assolutamente irrilevanti dal punto di vista politico per procurarsi un po' di voti credo che abbiano chiamato o comunque richiesto voti alla criminalità organizzata che queste persone abbiano avuto un ruolo politico lo escludo stavano semplicemente cercando voti con ogni mezzo e peraltro onestamente non erano persone che li hanno cercati per il nostro schieramento politico nel senso che li hanno cercati per il centrodestra i voti con metodo mafioso però anche se qualcuno mi dovesse dire ma la colpa è del centrodestra io direi di no nel senso che non è colpa del centrodestra se si sono trovati questi due questa coppia cioè o meglio le avranno scelti male però non è che posso dire da questo che c'è un metodo che il centrodestra pugliese utilizza in modo sbagliato anzi ho più volte detto in consiglio regionale che io ho la fortuna di essere il presidente di una regione dove il livello politico sia di centrodestra che di centrosinistra a mio parere non è minimamente sfiorato da collusioni di questo genere l'ho detto in aula e lo ripeto in aula consigliare lo ripeto oggi e d'altra parte i rapporti tra di noi a parte i momenti delle campagne elettorali che ho capito la prossima volta dobbiamo essere più attenti prima delle campagne elettorali ai nostri rapporti reciproci è chiaro che in questo momento c'è un clima complessivo che amplifica qualunque cosa al punto ieri io ho sentito vorrei anche informarvene ma penso che l'abbiate saputo che c'è un importante esponente politico di Fratelli d'Italia Donzelli che dice che mi avrebbe dovuto chiedere le dimissioni per quello di cui ho parlato oggi cercando di ovviamente io capisco che non posso chiedere a voi tutela anche se un tempo questa cosa avveniva diciamo però è evidente che io sono la commissione antimafia per farmi difendere istituzionalmente non sono più parte di un'organizzazione non ho il CSM se qualcuno mi accusa di avere fatto delle cose dal punto di vista della come vogliamo dire etico e voi accertate che non ci sono problemi di questo genere io devo chiedervi tutela non ho altra autorità alla quale chiedere tutela e lo faccio con tutta la fiducia del mondo perché come io sono aperto a prescindere dalle questioni ideologiche o dalle questioni elettorali io penso che la funzione della commissione antimafia sia anche quella cioè di evitare che qualcuno sia perseguitato senza motivo mediaticamente da fatti che non hanno rilievo e che voi avete accertato come rilevanti da questo punto di vista credo di avere i dati economici della città di Bari sono importantissimi ma devo dire un filino sotto quella di Lecce Taranto regge nonostante le problematiche che anche che anche lei conosce che riguardano il calo produttivo dell'Ilva c'è ovviamente un momento positivo che però non torniamo alla discussione sul risultato dell'antimafia stiamo sempre sulla lama di un coltello perché è sempre un sud è sempre un sud complicato e quindi sia l'economia sia la repressione delle mafie e credo che le due cose siano molto collegate nel senso che l'immagine nuova della regione Puglia e in particolare della città di Bari ha dato una spinta economica enorme ora io mi auguro che questo taffazzismo che è seguito alla vicenda alle vicende giudiziarie di Bari che non significa che bisogna sottovalutarle ci mancherebbe però bisogna distinguere anche perché nella stragrande maggioranza si tratta di indagini molto risalenti nel tempo cioè la coppia di persone che hanno fatto il voto di scambio al comune di Bari a favore del centro-destra va in giro dal 2019 e quindi è chiaro che sono fatti vecchi e tant'è che nel frattempo hanno avuto il modo con la stessa spregiudicatezza di schierarsi poi con altre parti politiche fermo restando che si sono schierati in via unilaterale però bisogna tenerli lontani bisogna marcarli bisogna essere attenti e bisogna forse anche dialogare tra opposti schieramenti per fare in modo che la concorrenza politico-elettorale non si svolga su personaggi di questo genere non è facile perché noi stiamo facendo un esame adesso di tutte le liste che si presentano al comune di Bari con mezzi che però non sono quelli che avevo una volta o che ha la commissione antimafia cioè una volta uno sparava una lista di nomi ai carabinieri i carabinieri nel giro di pochissime ore ti dicevano vite morte e miracoli di ciascuno chi organizza una lista non ha questo privilegio può andare a chiedere se si fa in tempo i carichi pendenti e i certificati penali ma il controllo preventivo ovviamente tenga conto che le liste si consegnano domenica e non credo che nel centro domani non credo che nel centro destra e nel centro sinistra ad oggi fino a stasera le abbia definite completamente nel senso che è una fatica terribile perché con con l'aria che tira le persone che si candidano volentieri non sono tante lo fanno spesso come un dovere civico quello di candidarsi e io colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che si stanno candidando a destra e a sinistra perché a Bari in questo momento fare questa scelta non è una cosa semplice grazie ho iscritto il senatore Melchiorre grazie presidente ascoltando le parole del presidente Emiliano mi sono ricordato di un episodio di qualche anno fa proprio quando il presidente Emiliano diventò sindaco diventò sindaco e in un quartiere della nostra periferia che è in siteto decise di cambiare la toponomastica e decise in particolar modo in una strada di chiamarla via della felicità se lo ricordano io non so se darti del tu del lei però ti do del lei diciamo anche se dipende dalla presidenza a me puoi chiamare manteniamo diciamo i livelli diciamo i siti io ho dato del lei ad Andrea e quindi continuerò a darti del lei però diciamo cercherò di farlo e via della felicità è un po' lo specchio del comportamento di Emiliano cioè quello di raccontare diciamo una bari diversa rispetto diciamo a quello che è avvenuto nel corso di questi anni e perché diciamo se uno andasse via della felicità e lei me ne deve dare atto di questo tutto è meno che la felicità quindi lei come l'ha interpretata e adesso adesso le do l'interpretazione autentica diciamo fate gli indisciplinati nonostante siate amici per favore abbiamo anni di diciamo di rapporti di questo tipo lei invia dei sediari e si aspetta di trovare le sedi no 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 e quindi dicevo è un po' diciamo questo diciamo il modo il modo il modo di essere del presidente Emiliano cioè quello di parlare di felicità lì dove la felicità in realtà non c'è lei ha fatto riferimento diciamo ad una cosa che avevo fatto io ma lo dico diciamo in maniera molto veloce e sintetica per dire il mio approccio che immagino sia molto differente rispetto a quello suo lei ha fatto riferimento alla cooperativa vita nuova no che lì per primo quando si insediò ne devo dare atto in consiglio comunale disse che era una bella esperienza ma io voglio ricordare la cooperativa vita nuova come nacque cioè quando vennero a trovarmi delle persone che erano usciti dal carcere volevano come dire avere un'occupazione ma lo dissero con linguaggio anche abbastanza violento allora io all'indomani di quell'incontro andai in procura e raccontai quello che era successo andai dal prefetto sua eccellenza Tommaso Blonda e raccontai quello che era successo andai da Don Nicola Bonerba parroco della cattedrale e raccontai quello che era successo e insieme costruimmo una rete sociale una rete sociale insieme con tutti gli interlocutori e riuscimmo a dare una risposta esaustiva alla loro esigenza cioè costituimmo una cooperativa che attualmente ancora esiste che però aveva lo scopo non già di dare il pesce ogni giorno lei ha parlato diciamo della stabilizzazione all'interno delle aziende municipalizzate ma aveva lo scopo come dire di insegnare a pescare in un sistema diciamo corretto trasparente leale e quella cooperativa durante la nostra amministrazione durò così cioè nel senso che riusciva a trovarsi lavoro lavorando ma non con l'amministrazione comunale all'inizio ma subito dopo con il mercato diciamo privato e subito dopo però quelle persone lei mi dice che sono state stabilizzate proprio questo la diversa come dire rapporto che noi abbiamo rispetto a come si gestiscono persone che hanno dei precedenti di questo tipo poi rispetto a quello che diceva l'onorevole Orlando a proposito del fatto delle dichiarazioni di Rossi le dichiarazioni di Rossi sono state qui secretate quindi non dirò quello che è successo all'interno della commissione per correttezza istituzionale però riprendo una dichiarazione del procuratore Rossi del 12 di aprile la zona grigia esiste il problema tra mafia ed economia è centrale è un articolo uscito sull'immediato quindi c'è questo stato di cosa non si può dire che Bari diciamo sia completamente abuzza da questo fenomeno però ecco perché bisogna come dire guardarlo con la dovuta attenzione rispetto diciamo a quello che è successo così come c'è un articolo dell'1.3.2024 di Repubblica dove dice la mafia le mani sull'antam ai clan i soldi dei parcheggi per i concerti ancora adesso esiste questo problema tanto è vero che è stato oggetto di arresti quindi il problema dei parcheggi esiste ancora così come esiste anche il parcheggiatore abusivo che è proprio davanti alla stanza del sindaco De Caro davanti al prefetto davanti alla stazione davanti all'hotel oriente cioè ci sono questi fenomeni che continuano ad esistere e che come dire tutti insieme abbiamo come dire l'obiettivo di De Bellaro ecco oggi io però volevo fare questo tipo di diciamo di premessa rispetto al fatto che nel corso di questi anni e mesi sono successe delle cose il codice interno 130 arresti lei ha fatto riferimento ma ci sono state anche una serie di suoi collaboratori che sono stati oggetto di procedimenti giudiziari mi riferisco per esempio al capogruppo del PD al direttore dell'Asset al presidente del consorzio di bonifica al capo della protezione civile quindi ci sono tutta una serie di persone che evidentemente per errata valutazione di carattere politico perché noi possiamo fare solo delle valutazioni di carattere politico sono state diciamo da lei individuate come suoi collaboratori ci sono questi fatti non si può come dire non dire poi esiste una Bari buona che io sono il primo a difendere una Puglia buona che sono il primo a difendere però ci sono questi fatti che è giusto anche evidenziare perché altrimenti come dire si continua a percorrere quella via della felicità che tanto felice diciamo non è diciamo e in particolare le faccio un'ultima domanda perché non voglio rubare il tempo ma voglio essere sintetico e chiedo scusa ne ho fatte però lei è stata un'ora e dieci io sono stato cinque lo so e lo so e per questo lo faccio allora nel corso delle indagini condotte dalla procura di Bari è stata intercettata una conversazione riportata in un articolo del quotidiano La Verità del 26 marzo 2024 che dà conto di problemi che lei avrebbe avuto a causa dell'acquisizione dei messaggi registrati sul suo telefonino in particolare ne parlano Olivieri Giacomo e Strisuglio Gaetano mentre discutono delle movimentazioni di 5-600 euro di bori benzina da impiegare per comprare voti nel corso di tale dialogo Olivieri afferma ora hanno fottuto Emiliano mi sembra un po' difficile però lo dice col telefonino domanda può spiegare se ne ha conoscenza e a quale circostanza si riferisce Olivieri se ne ha conoscenza ovviamente e al corrente di indagini svolte nei suoi confronti è stato mai imputato per vicende connesse all'attività politica o comunque nel periodo in cui ha svolto attività politica e concludo dicendo una cosa lei ha fatto riferimento a quei politici Olivieri Ferri non l'ha detto ma ce ne sono tanti altri che io chiamerei politicamente Zattere cioè quelli che hanno aiutato una parte politica ad essere eletta ecco queste Zattere per esempio Olivieri lì ha fatto riferimento giustamente che è stato sì eletto la moglie nel centro-destra però fino a qualche giorno prima era nel centro-sinistra e dopo qualche giorno è passato nel centro-sinistra quindi queste Zattere hanno contribuito nei fatti nel corso degli anni la moglie voglio ricordare che il sindaco ora sindaco De Caro l'ha nominata qualche mese prima a capo del controllo strategico della città metropolitana e poi ha dichiarato ma io non la conoscevo quindi ci troviamo di fronte come dire a queste chiamiamolo opacità incongruenze ecco rispetto a questo diciamo io avrei necessità di avere un suo contributo spero di essere stato chiaro preciso e compendioso va bene allora la prima domanda è perché abbiamo fatto una scelta toponomastica su valori positivi perché ovviamente quel quartiere era stato completamente abbandonato a se stesso devo dire per una ragione di scelta urbanistica nel senso che a Bari si costruiva dove diciamo dove serviva ai probabilmente proprietari delle aree ma questa è una cattiveria che non voglio non voglio e quindi che succede che questo quartiere viene costruito credo a 3-4 km come minimo dal più vicino dei quartieri della dall'altra parte della strada era della della superstrada era in realtà vicino a un bellissimo quartiere che è Palese Santo Spirito ma non c'era il collegamento non c'era la strada per andare da una parte all'altra e questo ovviamente è il modo in cui io ricevo questo quartiere quando divento sindaco addirittura era talmente devastato dal punto di vista dell'abbandono che io inizio la campagna elettorale da quel quartiere proprio sul tracciato della strada che non era mai stata fatta per collegare i due le due parti sotto la la statale era veramente una cosa immaginate tutti i luoghi pubblici erano in rovina ci sono fotografie con proprio una rovina anche proprio fisica e c'era ovviamente una densità criminale che era proporzionata all'abbandono nel quale l'amministrazione precedente aveva lasciato quel quartiere e quindi cominciamo un lavoro molto complicato e difficile che addirittura è arrivato al punto da far realizzare lì vicino per aumentare la massa critica urbanistica e giustificare la presenza di servizi perché il motivo per il quale i negozi non reggevano era il fatto che c'era troppa poca gente quindi noi abbiamo messo insieme se non mi ricordo male le case ex articolo 18 delle forze dell'ordine con quelle di questo quartiere che adesso diciamo più o meno quando parlo in termini ottimistici parlo del miglioramento del paziente non parlo della sua guarigione perché tutte le nostre città tutte le nostre periferie sono tutte malate tutte Roma Milano Torino per quello che mi risulta per quello che mi dicono però è chiaro che il livello della malattia ha il suo peso quindi noi abbiamo fatto una serie di interventi dal punto di vista degli investimenti strutturali infrastrutturali il campo di calcio adesso mi sono mi sono dimenticato un sacco di cose anche sostenuto la parrocchia ridipinto tutte le case che erano in cattive condizioni ovviamente abbiamo messo una scuola di cinema che è alloggiata e che ancora esiste eh sì sì la scuola di cinema però l'avevate anche quella si è ressecata vabbè comunque quella che consiglio comunale senatore il consiglio comunale abbiamo messo una scuola di cinema sulla quale la mia amministrazione ha molto investito e credo stiano ancora investendo quindi abbiamo fatto un bel lavoro siccome si sentivano abbandonati da Dio e dagli uomini abbiamo cercato di produrre questioni di positività e l'idea dell'assessore all'automonomastica fu questo devo dire io forse non ci avrei pensato perché non perché sia uno di quelli che non ha sentimenti positivi però sarei stato un po' più prudente ma l'entusiasmo dell'assessore fu tale che alla fine è andato come è andato vabbè credo di avere risposto ma senatore lei vuole sapere se questo sentimento un po' diciamo come vogliamo dire eccessivamente ottimista mi abbia indotto a sottovalutare il fenomeno criminale della città di Bari è questa la domanda? no però devi dirci è questa la domanda prego senatore specifichi la domanda l'interpretazione autentica è questa perfetto quindi finalmente ti sei convinto che la mafia esiste a Bari ho sbagliato non dovevo riforma se lei mi fa così lui risponde ho sbagliato io ritiro la domanda giusto 30 secondi prego poiché il presidente Emiliano diceva che da quando è arrivato lui questa mafia non esiste più non ho mai detto è stata attenuata io voglio ricordare che il presidente Emiliano il sindaco di quella parte politica Simeone di Cagna Brescia poi l'ha nominato presidente dell'Acquedotto quindi se l'ha nominato lei quindi se era così incapace di capire io stavo parlando di lei non di dire no 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 però voglio dire ho chiuso i 30 secondi grazie basta presidente non faccia l'indisciplinato per evitare siano ragioni mi sono autocensurato subito allora io ribadisco che Simeone di Cagna Brescia è diventato nel tempo uno dei miei migliori amici una di quelle persone delle quali sono stato onorato di essere amico dopodiché questo non toglie nulla alle nostre divergenze politiche dove in molti casi aveva ragione lui in altri casi avevo ragione io dopodiché però l'amministrazione precedente della quale il senatore Merchioli faceva parte era l'amministrazione negazionista cioè era l'amministrazione che sosteneva che una mafia vera e propria a Bari non esistesse e devo dire che già il fatto che oggi invece discutiamo a parti invertite tutto può essere nella vita ma d'altra parte dopo vent'anni è anche possibile quindi la domanda è pertinente se mi permette è giusto che lui si sinceri che ciò di cui si è convinto io finalmente riesca a gestirlo in maniera migliore io sono riuscito a convincere lui e lui adesso deve vigilare dopo che si è convinto che io faccio il mio dovere e quindi la domanda è propriamente posta però sono tentato a chiamare poi senatore la prego abbiamo diversi iscritti a parlare ancora quindi chiedo di stare sulle domande e quindi la domanda è pertinente e rispondo che attraverso ciò che ho indicato nella parte introduttiva cioè l'infinita serie cioè per essere chiari noi pongo una questione epistemologica l'antimafia sociale era un concetto astratto prima dell'agenzia di Bari e prima dell'ufficio della regione Puglia noi abbiamo cominciato da pionieri a fondare i principi fondamentali dell'antimafia sociale che ovviamente è una cosa in divenire rispetto alla quale però ho verificato da soggetto che parliamoci chiaro faccio un'altra piccola confessione quando ero magistrato e stavo lì con le intercettazioni telefoniche mandati di cattura quando mi venivano a parlare di rieducazione ovviamente ero molto come posso dire ero molto scettico e faccio ammenda perché invece ho potuto a un certo punto capire ero ancora magistrato che per avere un risultato permanente definitivo dovevi fare tutt'altro o non tutt'altro dovevi fare dopo l'azione repressiva dovevi fare l'azione rieducativa che non è quella diciamo forzata perché non puoi forzare nessuno alla rieducazione ma era e che non riguardava solo il detenuto in sé per sé ma il contesto sociale nel quale lui operava ho letto di recente un articolo in cui qualcuno si lamenta dice ma le stesse famiglie che prima spacciavano droga come si vendeva la polenta fritta adesso gestiscono i bed and breakfast ok ma c'è comunque una bella differenza tra spacciare droga e gestire bed and breakfast soprattutto se uno ha abdicato alla scelta criminale questo peraltro va verificato dalle forze dell'ordine ma se uno cessa l'attività criminale e comincia un'attività legale o questo è un risultato gigantesco gigantesco che io rivendico oggi e questo vale per i souvenir per i ristoranti le pizzerie tutto quello che è accaduto peraltro senza fenomeni diciamo drammatici di sovraffollamento perché noi stiamo il sindaco è molto attento a questo genere di problematiche e quindi anelare alla felicità è una cosa che noi abbiamo fatto lanciando il cuore oltre l'ostacolo venti anni fa ma che sia pure nel limite di ciò che l'umanità può afferrare della felicità che non so se lei si vuole soffermare sul concetto filosofico però è chiaramente complicato dire che uno dà il nome via della felicità perché è convinto che lì sono tutti felici cioè se è questo l'interpretazione è sbagliata erano auspici erano desideri erano valori positivi erano un modo forse ingenuo di creare elementi di speranza perché la questione speranza nella lotta alla mafia è centrale cioè il fattore speranza avere fiducia speranza di poter vivere meglio è fondamentale e devo dire la stessa questione meridionale è legata alla speranza di un miglioramento quando noi alle volte non comprendiamo alcune scelte tipo l'autonomia differenziata è perché temiamo che si spenga la speranza nei luoghi dove c'è un degrado di natura sociale dove c'è un degrado di natura criminale dove c'è un sottosviluppo di natura economica può essere un caso che tutte queste cose stiano insieme nello stesso luogo e quindi noi oggi stiamo ragionando di una strategia della Repubblica Italiana e in particolare della Commissione su come si fa a reagire a questi rischi e quindi penso di aver dato un buon contributo ad una ipotesi poi non ho nessuna pretesa come diceva la senatrice Paita di imporglielo ho detto io ho visto che funziona se volete provare sono pronto a collaborare manca la risposta alla domanda sul riferimento a un articolo di giornale che poi riporta una sua intercettazione su di lei di Olivieri non l'ho mai letta non ho la minima idea di che cosa si fa cioè che cosa si sarebbe scritto in questo ma lei ha acquisito la intercettazione pubblica eh no lei membro della Commissione di mafia l'atto è pubblico acquisisca l'intercettazione e mi faccia la domanda sull'intercettazione non sull'articolo di giornale lui ha riportato l'articolo di giornale quindi questo io ho capito ho sentito poi se potessi leggere il verbale dell'intercettazione o l'accettazione dell'intercettazione potrei rispondere non vorrei che il giornale avesse dato delle interpretazioni io quell'articolo non l'ho letto non l'ho verificato quindi non sono in grado di dire di che cosa stia parlando va bene grazie Presidente ma credo peraltro che l'ordinanza sia stata acquisita quindi lei se se la legge ho iscritto il Vicepresidente De Rao mi sente Vicepresidente se no vado avanti io la sento prego si si prego grazie innanzitutto devo dire che ho apprezzato molto l'intervento del Presidente Emiliano per i suoi contenuti voglio a questo proposito precisare innanzitutto che anch'io non ritenevo una mancanza di rispetto il fatto di aver richiesto il rinvio dell'audizione per una serie di impegni tra i quali la mozione di sfiducia che era stata presentata al Consiglio regionale quindi il fatto poi che oggi sia presente dimostra che avevo correttamente interpretato anche quella sua richiesta devo dire che l'intervento del Presidente Emiliano è un intervento che ha avuto dei contenuti particolarmente significativi perché ha affrontato qual era la situazione di Bari e inizialmente della città di Bari e poi anche della regione quando iniziò da sindaco ebbene io ricordo bene qual era quella situazione e qual è stata la situazione successiva di una mafia particolarmente feroce di cui una volta si ignorava totalmente la matrice giustamente come è stato ricordato all'epoca si parlava semplicemente di un'associazione per delinquere e si parlava poi quanto a la mafia della sacra corona unita ma non è tanto su questo evidente che intendo porre la mia domanda quanto sul fatto che il suo intervento ha riguardato un'antimafia sociale l'importanza di sollecitarla di sponderla estenderla espanderla aderirvi e sostenerla l'assegnazione di beni confiscati e qui la grande importanza che ha avuto non solo l'assegnazione a fini sociali istituzionali ma addirittura ad abitazione per coloro che non avevano casa e questa veramente è diciamo una delle innovazioni che è stato fatto nell'ambito di beni confiscati perché raramente ciò avveniva e ancora il riuscire a coinvolgere i giovani e quindi cambiare il tessuto sociale nei quartieri difficili in modo da avvicinarli allo Stato all'attività regionale ecco grandi attività importanti protocolli e io rientro immediatamente in quello che è il tema proprio della commissione e la mia domanda è rivolta a conoscere quali siano state anche le iniziative in materia di come dire contrasto selezione o comunque difesa del PNRR cioè di questi programmi economici importanti che la regione sta attuando e quali eventualmente le misure proprie perché se esse possono essere interpretate anche come modello vanno diffuse ma soprattutto in un territorio come quello che abbiamo conosciuto con la Presidente siamo stati a Foggia e Foggia è comunque esponenziale per quanto certamente una provincia diversa di quella che è il panorama mafioso della Puglia e è importante anche sapere la regione con quali protocolli o con quali misure o con quali innovazioni riesce oggi a verificare o comunque come dire difendere da infiltrazioni o inquinamento soprattutto in un momento in cui lo stesso codice degli appalti si è aperto ad una discrezionalità che necessita di continui controlli grazie buon Presidente sì allora sul sul PNRR noi abbiamo preso iniziativa devo dire molto tempo fa con la Guardia di Finanza e con le altre forze dell'ordine per sottoscrivere addirittura io sono andato a parlare direttamente con l'allora Comandante Generale della Guardia di Finanza proprio per affrontare questa ipotesi di istituire un'entità diciamo così che potesse in qualche maniera attuare la sorveglianza anche perché pensavamo ingenuamente noi regioni di essere protagoniste del PNRR fatto questo che poi non si è verificato nel senso che le regioni hanno un ruolo molto marginale devo dire un ruolo che per quanto riguarda la regione Puglia è relativo a circa 700 milioni sulla sanità e adesso non vorrei dire sciocchezze non ero molto preparato sul punto e forse una parte di JTF su Taranto per la transizione energetica ed ambientale ma la stragrande maggioranza dei fondi sono trattenuti al governo oppure sono andati ai comuni poi dopodiché noi siamo ancora completamente congelati dal punto di vista dei finanziamenti pur essendo la regione Puglia la prima regione italiana nella capacità di spesa di fondi europei è una delle prime d'Europa e anche del fondo di sviluppo e coesione purtroppo l'insieme di queste misure è ancora fermo perché non riusciamo a ottenere dal governo neanche la parte di cofinanziamento dei fondi europei e c'è in corso un esame di tutta la strategia del fondo di sviluppo e coesione che nella sostanza sta paralizzando l'economia pugliese che ha circa 6.000 aziende in attesa di conoscere l'esito delle loro domande di finanziamento anche perché il ministro precedente il ministro il ministro precedente Campana una signora molto brava e competente la Carfagna grazie per il soccorso il ministro precedente e il ministro Carfagna ci aveva preannunziato la prossima attribuzione dei finanziamenti e quindi ci aveva invitato a raccogliere tutte le domande dove impegnare l'FSC e quindi adesso c'è una situazione complessiva in cui alla luce del ruolo marginale che le regioni hanno nella spesa del PNRR e alla luce dell'esistenza di un protocollo con la Guardia di Finanza e le altre forze dell'ordine nazionale sostanzialmente la regione Puglia sta lavorando all'interno del protocollo nazionale anche se abbiamo sottoscritto un'intesa col comando regionale che poi ha delegato i suoi uffici per un controllo più stringente di tutti gli atti della regione Puglia ma la cosa più importante che noi stiamo cercando di fare è quella di connettere tutte le azioni del PNRR ammesso che le riusciamo a definire e a conoscere con le altre linee di investimento quindi in particolare la ZES unica la ZES unica ha pure determinato un blocco di tutti i finanziamenti che erano in corso verso le aziende che si stavano insediando nelle aree ZES della Puglia che poi erano molto interessanti perché erano aree transregionali nel senso che avevamo connesso sia il Molise sia la Calabria alle nostre ZES adesso tutto il processo è fermo e non sappiamo onestamente che cosa stia accadendo agli insediamenti ZES insomma c'è in generale una estromissione delle regioni dalla strategia del PNRR e quindi onestamente non potendo noi attuare la vigilanza sulle spese dei comuni perché non è questo il nostro compito né su quelle dello Stato attendiamo anche suggerimenti perché no dalla commissione antimafia volevo ringraziare l'onorevole De Rao per le sue belle parole e volevo ovviamente anche mettermi a disposizione perché è evidente che i suggerimenti che dal suo punto di vista che è un punto di vista che io considero importantissimo per diciamo la testimonianza intera della sua vita è chiaro che per me ricevere indirizzi da questo punto di vista sarebbe estremamente prezioso e quindi rimango a sua disposizione grazie grazie mille ho iscritto il vicepresidente Dattis grazie grazie presidente io ho bisogno di fare delle domande per una domanda chiederò l'accesso alla seduta segreta per adesso rimaniamo in pubblica siccome sono state fatte delle considerazioni io credo che in premessa le debba fare pure io abbia diritto di farle perché il presidente Emiliano dice è stato anche chiesto di spiegare perché lo dice che la regione non è stata interessata non è interessata da da indagini se la regione è la regione Puglia così soggetto giuridico probabilmente come dice lui questo non lo possiamo sapere ma basterebbe elencare al presidente Emiliano un vasto numero di persone che della regione Puglia scelte da lui sono state indagate e condannate tra queste c'è anche la condanna del collega Stefanazzi che ho letto anche nelle agenzie di oggi commenta le dichiarazioni di altri che all'epoca dei fatti e svolgendo un ruolo di collaboratore diretto del presidente è stato anche il suo capo di gabinetto è stato condannato per un illecito poi ci sono dirigenti amministratori di agenzie io faccio l'elenco non me lo faccio l'elenco così è meglio tutti scelti da Michele Emiliano che sono Grandagliano deve spiegare agli altri di chi si tratta sì sì no no non lo spiego lo sanno benissimo è che sto spiegando agli altri che come ha detto il collega Filippo Melchiorre la via della felicità poi va raccontata Grandagliano San Nicandro Lerario Borzillo Pisicchio lo stesso Stefanazzi un attimo solo che devo scrivere Borzillo poi sono tutti Grandagliano San Nicandro Borzillo Lerario Stefano devo prendere appunto sì sì li conosce benissimo va bene li conosce benissimo no li conosco sì 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 va bene ma noi dobbiamo fare il dibattito onorevole vado avanti con la sua domanda il presidente non può intervenire così glielo do io la parola perché così funziona prego adesso parlo poi con calma rispondo quindi questa immagine che fino adesso ha dato di opulenza nazionale perché siamo su siccome ha parlato urbi e torbi al popolo è bene che il popolo queste cose le sappia detto ciò le volevo chiedere questo non posso fare riferimento alla agli atti perché gli atti sono riservati io li ho letti però non posso fare alcun riferimento invece faccio riferimento anch'io a fonti aperte che sono quelle dei giornali dove viene riportata una intercettazione di un tale Gaetano Strisciullo che dice è venuto a trovarmi praticamente Michele Emiliano ed è venuto qui a baciarmi sulla domanda è solo questa fonti aperte se questo Gaetano Strisciullio tra i vari incontri che lei ha raccontato le decine di persone che ha incontrato le mamme le mogli i parenti eccetera eccetera che erano tante donne l'ha detto prima lei se questo Gaetano Strisciullio lui lo ha mai veramente andato a incontrare così dice la la l'articolo della verità riprendendo e se lei mi dice le carte io le carte le ho lette ma non le racconto qui perché sono segretato basta rispondere semplicemente basta rispondere alla basta rispondere al giornale basta rispondere alla sì o no semplicemente questo poi sì sì poi chiedo di andare chiedo di andare in chiedo di andare sì vicepresidente per la segretata andiamo in finale faccio fare le altre domande poi le faccio fare le altre intanto la lascio lascio rispondere se non deve aggiungere altro prego presidente adesso lei la parola la condanna di Stefanazzi è avvenuta in primo grado non è una condanna definitiva appellato si tratta di una condanna per finanziamento molto illecito della mia campagna per le primarie del partito democratico l'accusa consisterebbe nel fatto che un imprenditore barese si sarebbe recato dalla agenzia di pubblicità da me incaricata che mi aveva tra virgolette rifilato una campagna elettorale che aveva già utilizzato per Deborah Serracchiani in Friuli e rispetto al quale c'era una 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 possibile controversia questo imprenditore è andato lì e non si sa esattamente perché e come e ha detto siccome io ho una sede a Torino fammi della pubblicità a me e chiudi la controversia con Emiliano questa è l'accusa di cui risponde Stefanazzi quindi dopodiché Stefanazzi si è difeso ovviamente io posso dire che a me personalmente mi ha convinto Stefanazzi è assolutamente innocente di quello di cui viene accusato però ci sarà il processo d'appello quindi il fatto che lei citi una condanna non definitiva dimostra diciamo un atteggiamento che secondo me è assolutamente sbagliato perché lei sta cercando di tirare in mezzo a questa storia come se fosse una mia responsabilità vicende che riguardano altre persone le ricordo che io nello stesso processo sono andato fino al giudizio e sono stato assolto per non avere commesso il fatto se lei si volesse leggere la sentenza gliela metto a disposizione si dimostrerebbe che io di tutta questa vicenda ero completamente all'oscuro e quindi lei non la può utilizzare mi scuso se le rispondo così direttamente ma siccome lei mi rivolge delle accuse io devo necessariamente difendermi lei mi sta accusando di avere vicino delle persone lei mi sta accusando perché questo è quello a quale vuole alludere che non si comportano bene che io ne sarei responsabile politicamente almeno politicamente giusto? io le sto dicendo che il suo modo di ragionare secondo me è scorretto quindi su Tefanazzi le ho risposte Grandaliano Grandaliano era il direttore generale di un'agenzia dei comuni della Puglia che viene nominata dalla regione che un giorno ha devo dire l'idea sbagliata di farsi se ho capito bene pagare una festa di compleanno una cena da una azienda di rifiuti l'accusa sostiene e ne ottiene la condanna in primo grado che questa cena sia stata pagata poiché in questo modo Grandaliano avrebbe avvisato questa impresa in via preferenziale di un bando della regione Puglia che metteva a disposizione di tutti i comuni determinate somme per la ripulitura dell'abbandono di rifiuti durante l'estate io non entro nel merito dell'accusa ancora una volta penso che l'accusa sia infondata per quanto mi riguarda perché ho la certezza che tutti i sindaci della Puglia erano a conoscenza di quel bando e che quindi non c'era nessun bisogno che Grandaliano li avvisasse prima per dargli un privilegio però io non sono stato indotto dalla difesa di Grandaliano come teste quindi evidentemente mi ha voluto risparmiare questa tortura se però ne avesse bisogno in appello io sono a disposizione ciò nonostante che Grandaliano ha sbagliato perché non ci si fa pagare le feste di compleanno e quindi Grandaliano nel momento in cui diciamo ha concluso il suo iter e non ha potuto giustificare in nessun modo a me che si era fatto pagare una festa di Capodanno non è più il direttore generale dell'Age San Nicandro San Nicandro viene accusato di avere ricevuto San Nicandro viene accusato di avere ricevuto una tangente di 60.000 euro per avere favorito diciamo così vado un po' all'ingrosso perché mi sono informato ma non al punto di studiare queste vicende per avere favorito l'aggiudicazione di alcuni appalti relativi al dissestro idrogeologico quindi non nella sua veste di direttore generale dell'asset ma di soggetto attuatore del commissario al dissesto che è una cosa che ovviamente non ha direttamente a che vedere con la regione Puglia ma dipende dall'ufficio del commissario e è in attesa di giudizio nel senso che nulla sappiamo sulla fondatezza di questa accusa fatto sta però che nonostante fosse stato colto diciamo così da questa accusa mentre era direttore generale dell'asset e soggetto attuatore del commissario di governo non è stato sottoposto a misure cautelari in carcere o agli arresti omiciliari ma è stato sospeso dalle funzioni dopodiché è subiudice e ancora una volta ho ragionevole avendo letto le carte ho ragionevole aspettativa che Sanicandro venga assolto perché c'è stato un equivoco nella lettura delle intercettazioni però io non sono il difensore di Sanicandro e quindi ometto di entrare da questo punto di vista Borzillo Borzillo è persona che è stata rinviata a giudizio per vicende che lo riguardano come commissario dei consorzi di bonifica i consorzi di bonifica non appartengono alla regione Puglia la regione Puglia ha la sventura di doverli gestire in termini di commissariamento a causa del loro dissesto e nel momento in cui è stato rinviato a giudizio per fatti che dettaglierà lui che non hanno nulla a che vedere con la regione Puglia ma eventualmente ove fosse ritenuto responsabile a fatti suoi familiari favoritismi e cose di questo genere sostanzialmente è stato revocato da me e sostituito con un altro soggetto l'erario l'erario è uno dei 230 dirigenti della regione Puglia e lei me lo carica come soggetto che io avrei nominato l'erario è uno dei dirigenti che viene nominato ogni volta che gli scadono l'incarico viene nominato a un altro incarico perché l'erario faceva parte dell'organico della regione Puglia l'erario era stato turnato dall'ufficio dell'economato che è un ufficio molto delicato ed era stato messo alla protezione civile per una legittima turnazione da ruoli ad alto rischio la protezione civile ovviamente in sé per sé è un incarico non particolarmente esposto soprattutto prima della pandemia poi si è trovato a svolgere questo ruolo durante la pandemia mi risulta che l'erario durante l'udienza dove ha messo sostanzialmente gli addebiti si sia scusato con la regione Puglia per il disdoro che ha provocato alla regione gli abbiamo chiesto 5 milioni di euro di risarcimento danni e lo abbiamo licenziato ora siccome sono 20 anni che io vado in giro politicamente parlando e i casi di cui lei parla c'è un'unica condanna non c'è neanche una condanna passata in giudicato per quello che mi risulta ci sono molti casi le ho detto che quello di l'erario la colpevolezza secondo me è certa appunto che ci siamo e gli altri sono tutti da discutere questa teoria che io mi attiro persone diciamo che commettono reati per mia tendenza è una teoria che può funzionare in campagna elettorale ma certamente non ha nessun fondamento poi lei mi parla di una intercettazione di Gaetano Strisciuglio e mi dice di dover far ricorso all'articolo della verità perché secondo lei gli atti acquisiti dalla commissione antimafia sulla indagine che contiene questa intercettazione sarebbero soggetti a segreto secondo me lei si sbaglia nel senso che gli atti in questione sono atti che sono stati resi pubblici perché già contestati agli imputati quindi non c'è più il segreto istruttorio mi rendo conto che non sono atti conoscibili erga omnes però il segreto di cui parliamo è un segreto di ufficio che quindi ove sussista una ragione istituzionale e lei sicuramente ce l'ha di farmi domande nella sede della commissione antimafia sul testo preciso dell'intercettazione io penso che lei non viola nessun segreto di ufficio se le utilizza per l'ufficio questa è la mia idea che io possa risponderle sulla base di un articolo della verità escluso perché l'articolo cioè la verità se non mi ricordo male ha più volte detto che io ho ceduto il porto di Taranto ai cinesi cose di questo genere siccome ovviamente ognuno la libertà di stampa è bella anche per questo perché ognuno può scrivere quello che gli pare salvo ovviamente che non non mi attribuisca fatti diciamo calugnosi o o diffamatori nel caso di specie non credo che questo Gaetano Strisciuglio abbia mai detto di avermi incontrato però se lei ritiene sulla base del del testo reale dell'ordinanza del verbale che Strisciuglio abbia detto una cosa del genere io le risponderò sulla base di quello che dice la verità fermo restando che io ovviamente Gaetano Strisciuglio non l'ho mai incontrato e le ribadisco ciò che ho detto prima io costituisco per questa gente un soggetto diciamo che fa parte di quella parte dello Stato che essi ripudiano quindi non è mai accaduto che io abbia diciamo per ragioni non d'ufficio ha avuto contatti con chi che sia che appartenenga che appartenesse ovviamente in maniera consapevole perché poi in maniera inconsapevole avrei incontrociato non so quante persone quindi questa storia di attribuirmi pure Gaetano Strisciuglio è un'operazione veramente deludente da parte sua Presidente per correttezza devo dirle che gli atti ce li manda con un regime la procura quando noi glieli chiediamo e noi li classifichiamo con il regime che ci manda la procura e soprattutto che per cambiare il regime degli atti quindi tolta l'ordinanza c'è un comitato apposito che deve stabilire se cambiare il regime degli atti quindi no solo per dire che non lo può decidere il Vice Presidente Dattis in questo caso solo per correttezza non mi si fa la domanda dal quotidiano la verità però se viene portata su fonti aperte si può utilizzare però lei si rende conto questo è io specifico solo il regime degli atti Presidente è seduta in una commissione delicatissima appunto dove fare le domande di natura giudiziaria cioè la base che è quello che sia un giornale siamo in un'audizione libera e ci tengo che quello che arriva a me dalla procura in modo riservato riservato resti e lo sottolineo sempre perché altrimenti vengo io a mancare nei confronti della procura e sinceramente non ne ho nessuna intenzione solo questo se dovesse avere notizia di questi fatti in altra sede chiederò di essere risentito così posso rispondere questo è il suo diritto pieno ho ancora prego Senatore Cantalamessa ho ancora tre iscritti a parlare semplicemente per far presente che le indagini e le inchieste di questa commissione spesso sono partite dall'opera di giornalisti spesso di giornali inferiori che hanno dato l'opportunità alla commissione avviare delle indagini che poi hanno portato una serie di cose tutto qui grazie grazie mille vicepresidente volevo solo puntualizzare che il riferimento iniziale era rispetto alla considerazione che non ci sono state indagini non che non ci siano state condanne perché anche io mi auguro che tutta sta gente che viene indagata magari e poi in maniera si scopre non corretta sia assolta ma l'affermazione mia era riferita alla esistenza di indagini davanti a una dichiarazione che diceva invece il contrario semplicemente questo allora devo precisare sì prego allora io ho detto che con riferimento alle tre operazioni perché vedo che anche le agenzie hanno frainteso con riferimento alle tre operazioni che si sono susseguite in tempi molto serrati quella sulla criminalità organizzata con voto di scambio politico mafioso quella con voto di scambio non mafioso e quella che riguarda da Pisicchio sono su queste tre non riguardano la regione Puglia io non posso sapere se in questo momento una qualunque procura d'Italia non stia indagando su questioni che attengono alla mia giunta posso dire che in quelle tre indagini che immagino siano quelle non ci sono fatti che riguardano la regione Puglia questa cosa è soprattutto la sua giunta e le ho specificato che Stefanazzi è indagato per fatti esterni alla regione ma come soggetto personale Grandaliano faceva parte di un soggetto che appartiene ai comuni e non alla regione San Nicandro è imputato per fatti che avrebbe commesso come soggetto attuatore del commissario di governo nominato dalla che sono io presidente del dalla presidenza del consiglio dei ministri quindi non attengono alla regione Puglia ma a questioni fuori dalla regione Puglia Borzillo è un commissario di una consorzio di bonifica che non è di proprietà della regione Puglia l'erario è l'unico soggetto ma è un dirigente che è stato condannato in primo grado e che onestamente ha ammesso le sue responsabilità rispetto al quale ci siamo costituiti parti civili l'abbiamo licenziato e abbiamo chiesto 5 milioni di risarcimento danni siccome lei ha parlato di opulenza che io avrei mostrato l'opulenza peraltro è un altro concetto però lei voleva dire che mi sono vantato dei buoni risultati che avrei avuto nell'investire tutta la mia vita nel servizio della Repubblica Italiana sì effettivamente io sono molto orgoglioso degli anni che ho trascorso al servizio della Repubblica giurando tre volte sulla Costituzione prima come magistrato poi come sindaco e poi come presidente della regione cioè io ho fatto tutto quello che ero in grado di fare per fare il meglio poi è evidente che non ci sono sempre riuscito anzi in moltissimi casi ho commesso degli errori avrò anche sicuramente ho sbagliato dal palco nel parlare diciamo troppo frettolosamente di un fatto troppo complicato che qui ci ho messo un'ora per spiegare tutto il contesto dal palco è un argomento che dovevo evitare però sto chiedendo e lo chiedo anche a lei perché lei è pugliese tutela dalla inversione della verità cioè non si può in un contesto come questo far passare un lavoro straordinario fatto da tutti non solo da chi sta parlando o dai miei amici o dai miei compagni di partito ma da tutta la regione perché è tutta la regione che ha fatto un lavoro strepitoso e devo dire moltissime persone di orientamento politico diverso dal mio hanno collaborato pienamente tant'è che la commissione antimafia della regione Puglia è sempre stata guidata dall'opposizione adesso è guidata da un autorevole membro del centro-destra che collabora con noi e che devo dire lo fa in maniera molto puntuale e leale la lealtà di rapporti che c'è sempre stata tra centro-sinistra e centro-destra qui guardo altre persone che sono state in consiglio regionale e che parlo dell'onorevole congedo che al quale in epoca non sospetta quindi non è captazio benevolenza ho fatto più volte riferimento al fatto che per me è stato un onore lavorare con lui quando era in regione e che ho sempre apprezzato il modo di fare politico e umano eppure di te Filippo non mi sono mai lamentato cioè sei più sicuramente l'onorevole il senatore Melchiorre è più pittoresco dell'invece istituzionalmente correttissimo l'onorevole congedo però è analogamente è analogamente ma no no ma siccome è una cosa che io ho sempre apprezzato anche il il senatore Melchiorre che sinceramente con il quale ho lavorato sempre bene abbiamo fatto insieme abbiamo ancora quattro domande io non voglio che di fronte alle denunzie di alcune irregolarità legate se non mi ricordo male alla gestione del teatro Petruzzelli io istituì una commissione di inchiesta che ho guidato personalmente su richiesta dell'allora consigliere comunale oggi senatore Melchiorre e credo che fumo capaci di fare un buon lavoro certo non è la stessa cosa che fare indagini non è la stessa cosa che fare indagini diciamo da parte è scritto l'onorevole Decorato così rimaniamo in zona Puglia grazie ma io volevo prima di fare la domanda al presidente Emiliano mi dispiace che non c'è l'onorevole Orlando io volevo ricordare l'onorevole Orlando lo dico qui il senatore e noi abbiamo ascoltato in questa sede il senatore Scarpinato fare domande alla figlia di Paolo Borsellini ora e il presidente non lo ha minimamente interrotto questo lo dico perché lo dirò anche quando sarà presente l'onorevole Orlando insomma l'opportunità che il senatore Scarpinato che era magistrato all'epoca che faccia domande e il presidente non lo ha minimamente interrotto nonostante c'era qualche ragione di opportunità ecco voglio farlo presente perché se no qui poi dimentichiamo alcune cose detto questo mi scusi eh presidente Emiliano volevo volevo chiederle in merito sempre alla famosa vicenda della visita alla signora lei eh ha reso la la stessa dichiarazione su questa visita unitamente visita che avrebbe fatto De Caro non se lo ricorda ma lei lo ha detto che lo avrebbe fatto insieme al sindaco di Bari già due anni fa lei aveva a Telenorba aveva raccontato l'episodio negli stessi termini in cui lo ha riferito poi a marzo quando è venuto fuori se non sbaglio il 12 marzo tutta questa vicenda ora la domanda è c'era stata anche all'epoca la smentita del sindaco De Caro su questa visita perché lei l'aveva già l'aveva già detta vorrei capire se lei si ricorda se questa stessa se poi De Caro aveva detto no io non c'ero solo ricorda male il presidente Emiliano perché ho la sensazione che le cose non insomma non per quel che riguarda lei la dichiarazione ma è il sindaco De Caro che non se ne è ricordato a marzo poi se ne è ricordato di non esserci esatto ecco questo volevo allora innanzitutto volevo specificare una cosa che forse non ho detto e cioè che all'epoca dei fatti quindi parliamo 16 17 non escludo pure 18 anni fa ma questa è una constatazione che do che offro diciamo per la migliore interpretazione del futuro né la signora Capriati conosceva De Caro né De Caro conosceva la signora Capriati quindi è possibile che non sia avvenuto nulla di particolarmente memorabile per conto dei due per cui perché voglio anche ricordarle che la signora Capriati intervistata dal Tg1 ha detto che De Caro non è mai andato da lei e che diciamo anzi che De Caro ha sempre tenuto nei suoi confronti un atteggiamento di forte distacco quindi io come capita e lei mi capisce perché anche lei ha una messa di ricordi di tutta la vita intensissimi può capitare che qualcuno memorizzi dei fatti in un modo li ripeta anche più volte e che poi ovviamente alcune delle persone interessate a questo fatto è un fatto che avviene comunque in molti casi specificano ma guarda che io forse non c'ero io non non c'ero non è chiaro che questa cosa De Caro ha avuto interesse a precisarla nel momento in cui era stata capovolta nel suo significato cioè siccome De Caro si è sentito improvvisamente portato a casa di una persona peraltro mai accusata per quello che mi risulta di reati mafiosi la signora Capriano si è ritrovato affidato ad una persona equivoca è chiaro che a quel punto ha precisato il significato di quello che io avevo detto io questo fatto l'ho memorizzato così però il fatto che sia avvenuto anche un altro episodio quello di cui ho parlato davanti alla cattedrale in cui De Caro mi indicò quelli che erano proprio oggetto che erano stati quelli che lo avevano affrontato in maniera brutale scortese anche con questo con questa cosa dietro la schiena mi disse sono stati quelli me li indicò e io li affrontai dicendo questo è il mio assessore che è successo che c'è che non va e loro ovviamente si scusarono ma si lamentarono ovviamente dei disagi che la ZTL stava provocando a me ovviamente non si sono permessi di dire quello che forse disse la De Caro qua comandiamo noi perché io andai lì a dire che qua comandavamo noi cioè comandavo lo Stato comandavo io che ero il sindaco questo era il punto fondamentale ovviamente lo sto semplificando perché non adopererei mai un termine comando io con un cittadino qualunque però a determinate persone va ricordato che il potere stabilito dalla Costituzione è in determinati luoghi istituzionali che io rappresentavo poi è evidente qualcuno mi ha detto che io sarei un cattivo esempio per altri sindaci e ognuno fa il sindaco secondo la sua storia personale e con i mezzi di cui dispone io non sto dicendo che qualcuno mi deve imitare dico solo che in quella fase io facevo così e facevo così dialogando con il maresciallo dei carabinieri di Barivecchia col quale era una delle poche persone con le quali mi prendevo un caffè ogni tanto per parlare delle varie situazioni mi informavo ovviamente nel limite del segreto istruttore ora devo stare attento a quello che dico perché mi informavo sistematicamente con prefetti questori magistrati cercavo di tenere viva la memoria di quel patrimonio di conoscenze che avevo senza ovviamente travalicare i limiti della mia funzione e ho fatto tutto questo in perfetta buona fede poi può essere che ad altro tipo di personalità questo modello non vada bene non si attagli è possibile lei stesso sa che i sindaci di Milano tutti bravissimi hanno però avuto caratteristiche diverse non erano tutti uguali e quindi è evidente che ciascuno di noi interpreta la stessa maniera quindi io ho memorizzato quel fatto in quella maniera quando però Antonio De Caro mi ha dato la sua versione dei fatti e me l'ha data con assoluta convinzione e determinazione ho sinceramente pensato di avere avuto un ricordo sbagliato cioè di avere ricordato la sua presenza e quindi non sono in grado di dirle con assoluta certezza se lui c'era o non c'era dato il tempo trascorso una frase che nei verbali di polizia giudiziaria viene riportata proprio perché è un fatto di intuitiva verità nel senso che passati tanti anni è difficile essere sicuri sicurissimi io che ci sono andato io è sicuro questo più di questo non posso fare prego senatore Verini grazie presidente io anche per professione sono vicino alle ragioni della stampa e dei giornali ma ciò a proposito del riferimento fatto a una testata come la verità non mi impedisce di pensare che anche quel tito quel nome quella testata sia un po' un'aspirazione come quella di via della felicità insomma ecco questo per dire che anch'io condivido il fatto che si debba dare il giusto peso agli atti che hanno peso e poi le valutazioni sulla base di quanto viene pubblicato sui giornali spesso in maniera parziale frammentata possono invece lasciare il tempo che trovano prima di farle delle domande presidente però ho il dovere di aggiungere anch'io una cosa in premessa mi rivolgo direttamente a lei e indirettamente rispondo anche all'osservazione che il senatore e l'onorevole decorato faceva quando prima il deputato Orlando ha posto un problema non era un attacco ovviamente alla titolarità alla libertà che ciascuno dei commissari ha di fare domande però presidente mi permetta c'è il rischio molto forte che questa commissione se continuano modalità e atteggiamenti che nessuno può impedire perché i parlamentari hanno ovviamente totale libertà ma se alcuni atteggiamenti non cessano questa commissione rischia di trasformarsi in qualcosa di diverso non è più la commissione l'inchiesta parlamentare ma diventa una cassa di risonanza delle campagne elettorali c'è stata una ferita molto profonda qualche settimana fa quando alcuni passi di una audizione secretata di una magistrata che opera a Bari l'abbiamo ritrovati sui giornali l'abbiamo ritrovati sui giornali questo delegittima con quale spirito uno può venire se vede il secretario se vede le sue cose uscite seconda cosa quando l'onorevole Orlando invitava a rimanere nel perimetro dell'audizione ripeto è un invito è un'autoregolamentazione io non posso usare per fare campagna elettorale il mio ruolo in antimafia e la terza e ultima delegittimazione viene presidente e lo ribadisco anche questo dal comportamento del vicepresidente Dattis non rivango l'inappropriato la modalità incredibile con cui il vicepresidente della commissione il vice ministro Sisto ed altri sono andati in maniera francamente anomala da un ministro a chiedere una commissione d'accesso non funziona così lo sappiamo mi riferisco per esempio al fatto anche sgarbato istituzionalmente che stamattina prima prima dell'audizione del presidente Emiliano avvicinato dai giornalisti all'ingresso di San Macuto il vicepresidente Dattis abbia già con espressioni ognuno le può naturalmente esprimere ma con espressioni che dileggianti quello che avremmo ascoltato polemiche come se appunto forse già sappiamo quello che ci dirà Emiliano questo è un modo che delegittima la funzione di questo organismo e siccome la vogliamo tutelare tra l'altro e qui arrivo al presidente Emiliano è interesse di tutti possiamo avere ognuno opinioni diverse anche di merito su quello che ci ha detto il presidente Emiliano ma se io trovo un elemento come dire di grande valore civile ne trovo diversi e dirò quali ma uno soprattutto che lei presidente ha ribadito ma che credo sia apprezzato mi riferisco a lei presidente Colosi ma anche da lei quando ha riconosciuto che i passi in avanti anche nella lotta per l'affermazione della legalità a Bari e in Puglia sono avvenuti con il concorso di tutti gli schieramenti politici al comune di Bari alla regione e anche in queste citando persone che stanno qui che hanno collaborato ma che mi pare quindi se c'è questa volontà questo spirito non si capisce perché a non far dominare questo spirito su un tema che dovrebbe unire contrasto e prevenzione alla criminalità organizzata debba essere l'unico organismo è la commissione antimafia non può essere usata come una clava per la campagna elettorale di qualcuno a Bari come in altro luogo e tengo a dire che noi pur avendo chiesto e insistendo di accendere i fari ovunque quindi Puglia quindi Palermo quindi Anzio Nettuno quindi Genova quindi ma noi non usiamo la commissione parlamentare come una clava detto questo ne faccio anche una proposta presidente Colosimo anche qui io conoscevo conoscevo per l'attività politica le cose quanto avvenuto ricordo anch'io sul piano personale una giornata molto brutta per me a Bari perché l'Inter perse 3 a 0 se non ricordo bene con gol di Cassano no io volevo andare i bambini i bambini piccoli volevo andare a Bari Vecchia perché parlavano di Bari Vecchia come di una cosa da vedere avevi ragazzini piccoli ero accompagnato dall'allora direttore generale del Bari Calcio il presidente era a Matarrese il quale era un amico Umbro il quale mi disse no Walter per carità a Bari Vecchia non ci si può andare perché è pericoloso erano gli anni 90 erano ecco piccola esperienza modestissima esperienza personale però esattamente esattamente Francesco Virelli che era stato presidente della regione Umbria a suo tempo però lei oggi ci ha raccontato delle cose che io stesso ignoravo il fatto che il Comune si è deciso con un atto di stabilire l'obbligatorietà della Costituzione di parte civile in certi procedimenti il fatto che ci sia stato il rapporto con l'Agenzia e l'Ufficio Comunale per la Legalità i 140 beni confiscati assegnati allora che intendo dire io acquisirei non solo la sua relazione di oggi ma se possibile Presidente mi permetto io la chiedo come gruppo se possibile e chiedo alla Commissione di acquisire gli atti concreti che durante la sua sindacatura durante la sindacatura di De Caro e durante la sua presidenza in regione questi atti più significativi perché secondo me sono un patrimonio che merita di essere esteso diffuso che merita di essere fatto conoscere ad altri consigli regionali ad altri consigli comunali perché sono buone pratiche sono buone pratiche infine e arrivo alla domanda che le voglio fare due domande è stato già detto tutto io francamente a ragione l'onorevole De Caro penso che sia ormai chiaro lo svolgimento dei fatti e penso che tutto si possa dire dopo questa esposizione così ampia così credibile così impegnata che il presidente Emiliano ci ha dato oggi il fatto che lungi ma davvero anche qui basta con polemiche di infimo livello che non si fanno neanche nei comiziacci che tutti noi abbiamo fatto nella nostra vita per dire uso un termine per un sostantivo sbagliato ma perché insomma a volte i commizi sono una cosa nobile lui aveva il consiglio regionale ha fatto bene a chiedere di tenere distinte le cose e se poi la commissione secondo me con un eccesso però ha ritenuto di convocarle il 2 ma il 2 aveva questa cosa di sostituire Federica a una cosa che di questi tempi appunto ho capito ma il 30 il 30 il 30 lo si gioca si gioca però il 27 il 30 il 7 l'8 e il 9 5 date basta basta no non basta sulle mie parole basta lo dico io lo vede lo vedi lo vede sulle mie parole basta lo dico io non lo dice lo vede avete appena chiesto che io intervenga nel merito io sto intervenendo nel merito e non va bene e non va bene dopo che ho finito io allora io voglio chiudere questo dibattito va bene finisca poi le risponde grazie io non stavo dicendo che lei presidente presidente non stavo dicendo che lei presidente non stavo dicendo che lei visto che così si irrita e si inalbera che lei ha sbagliato secondo me sbaglia a irritarsi e a inalberarsi ma è un problema suo ecco però io ho un auspicio non è un consiglio perché la presidente dovrebbe non inalberarsi né irritarsi presidente detto questo ho detto che l'esposizione la fissazione a questa giornata dell'audizione spassa via ogni dubbio che c'è stato ogni polemica politica e non mi riferivo a lei presidente per questo la invitavo a non inalberarsi e irritarsi perché è evidente che le motivazioni vogliamo chiamarle legittimo impedimento no perché lo chiamavano legittimo impedimento a altri quando non c'erano legittimi impedimenti ma c'era una ragione forte la concomitanza con il consiglio regionale e il fatto che il 2 doveva presiedere la conferenza stato-regione io in questo senso voglio chiuderla mi pare che le polemiche politiche che ci sono state sulla fuga di Emiliano siano state polemiche fondate sul nulla alla prova dei fatti la domanda presidente che un po' la facevano anche altri però a me vorrei se possibile perché lei è stato BM sindaco e presidente di regione allora nonostante le istituzioni l'abbiamo ascoltato da molti non solo in audizioni abbiano fatto sostanzialmente il loro dovere dal punto di vista del contrasto alla legalità e però come in tante altre parti del paese l'illegalità esiste anche in Puglia anch'io ero con la presidente Derao ed altri a Foggia dove il comune era stato sciolto peraltro conosciamo mille realtà e allora però secondo lei certo meriterebbe una dizione a parte ma il suo contributo dal suo osservatorio che cosa di più di altro si potrebbe fare oltre quello che fanno in casa propria ma anche sul piano sociale oltre che sul piano della prevenzione le istituzioni regionali e locali quali altri strumenti potrebbero essere utili anche per contrastare e prevenire il fenomeno della penetrazione della criminalità mafiosa e la criminalità organizzata nella economia nella società perché c'è questa cosa e anche la penetrazione nella municipalizzata è un segno di questa presenza che deve far tenere sempre le antenne molto alte e la seconda cosa io ho apprezzato in questo senso me ne ha darato la Presidente perché io non faccio solo critiche il suo richiamo a una domanda precedente dice ma sai si tratta di un tema legato alla corruzione e la corruzione è un tema che ha contiguo alla criminalità organizzata e allora io dico se è così e io sono molto d'accordo Presidente Emiliano anche alla luce delle sue pregresse esperienze non pensa che oggi complessivamente non è una polemica politica ma noi stiamo un po' allentando troppo la lotta il contrasto alla corruzione in queste ore ci stiamo in qualche modo opponendo stiamo trattando con l'Unione Europea per limitare la direttiva europea sulla corruzione abbiamo fatto delle leggi poi ognuno anche a sinistra ne hanno valutato in un modo non è un problema politico abbiamo allentato nel codice dei contratti e degli appalti abbiamo allentato alcune norme che riguardano i controlli i subappalti che riguardano la possibilità di dare affidamenti diretti e di alzare le soglie per questi affidamenti diretti insomma non pensa che anche una implacabile lotta alla corruzione e anche ai reati contro la pubblica amministrazione aumentando gli strumenti investigativi le intercettazioni aumentando naturalmente i presidi di legalità che mettono insieme le istituzioni anche locali non pensa che anche questo punto del contrasto implacabile ai reati contro la pubblica amministrazione sia fondamentale per rendere il vostro sforzo di amministratori locali tutti in Puglia non pensa che sia utile rafforzare questi presidi di legalità prima di dare la parola al presidente Emiliano io invece di irritarmi la ringrazio perché così mi dà la modalità per rispondere in via definitiva a due questioni definitiva perché questa volta non intendo tornarci più il primo è che come vede è un suo diritto fare delle valutazioni anche sull'operato di altri membri di questa commissione come lei ha fatto e che nessuno la interrompa questo però non può valere solo per uno vale per tutti infatti io intervengo sempre e solo sul metodo e mai sul merito e il metodo per esempio su cui sono intervenuta nella famosa questione dell'interrogatorio alla figlia del dottor Borsellino ma senza mai levare la parola a nessuno chiedendogli di utilizzare una modalità diversa da quella che si stava utilizzando e agli atti e quindi è facilmente riscontrabili e questo intendo fare sempre perché io posso valutare di non essere interessata alla questione interista per ammorbidire diciamo i toni però lei ha tutto il diritto di volerne parlare qui per collegarla a Bari Vecchia mentre non ha il diritto di trasformare non è il suo caso ma è un esempio una audizione libera in un interrogatorio e quindi questo è il motivo per cui io sul merito degli interventi dei commissari non interverrò mai e non intendo intervenire poi gli appelli li conosciamo tutti li possiamo fare tutti e sono legittimi altrettanto anche quelli però mi preme e mi meraviglio di doverlo fare senatore perché lei siede nell'ufficio di presidenza a questo punto io prima ho voluto fare la signora e ho soprasseduto a questo punto mi preme ricordare che non è stata data al presidente Emiliano l'opzione del 7 o del 2 in cui lui aveva un impedimento istituzionale ma è stata data al presidente Emiliano dalle segreterie quindi io non ci ho mai parlato questo lo dico a sua discolpa immagino che lui nemmeno possa dire il contrario perché sono state interlocuzioni tra segreterie del 27 del 30 del 7 dell'8 e del 9 e voi di questo ne eravate pienamente informati perché è stato deciso in ufficio di presidenza e non so e no e no quindi sono 5 date non 2 date in cui sono pubblici sono pubblici gli eventi del presidente quindi peraltro questo non mi andava di dirlo però se voi mi continuate a dire che io devo per mio dovere e dovere di tutela di questa commissione dire che nessuno ha voluto mandare messaggi forvianti se dobbiamo raccontare come sono andate le cose le cose sono andate così e la successiva data del 2 quindi la sesta data che è stata proposta al presidente Emiliano è nata a seguito della mia lettura in ufficio di presidenza della lettera che avevo ricevuto e quindi era una data che non collimava con il voto di fiducia basta non ci voglio più tornare non mi sembra corretto nei confronti dell'audito ma non posso nemmeno far trapelare cose che non sono vere perché sono agli atti prego presidente per la sua risposta la prima quindi era suggerimenti sulle questioni come possiamo migliorare la capacità di resistenza delle istituzioni dalle infiltrazioni mafiose la seconda diciamo una domanda simile sulla questione della corruzione esatto sì allora è chiaro che l'apparato investigativo e normativo antimafia italiano è uno dei più perfezionati di questo mondo quindi quello che manca alle volte sono le risorse gli uomini gli uffici cioè se davvero questo è un problema serio quello di ridurre i rischi di infiltrazione mafiosa negli enti locali la soluzione dello scioglimento to cure è una soluzione che come posso dire per evitare l'infiltrazione uccide l'essere vivente cioè l'amministrazione che non è un essere vivente qualunque è un essere vivente legato all'esercizio della sovranità quindi c'è il voto la democrazia quindi è una cosa sulla quale sinceramente io penso che esistano misure c'è la possibilità di raffinare tutto il sistema innanzitutto dotando i comuni di potestà faccio un'ipotesi anche se mi rendo conto che è un'ipotesi complessa molte aziende utilizzano gli investigatori privati o comunque possono utilizzare mezzi di investigazione sul rispetto del contratto di lavoro e quindi che ne so fanno seguire i loro dipendenti se sono in malattia fanno fare accertamenti cioè c'è un gruppo di persone che stabilmente lavora sulla verifica della correttezza delle loro condotte anche alla luce di una serie di io sono destinatario di una marea di anonimi alcuni strutturati altri meno strutturati che noi mandiamo in automatico e tutti alla procura della Repubblica ma che potrebbero essere anche e che ovviamente finiscono per ingolfare le procure perché provi a immaginare la 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 fantasia degli anonimisti è incredibile la fantasia o anche qualche volta l'indicazione fare questo tipo di verifica è una di quelle cose che potrebbe essere consentita non dico a tutti i comuni perché sarebbe una cosa pazzesca ma almeno alle province avere degli uffici che si dedicano all'approfondimento delle condotte dei singoli dipendenti delle amministrazioni perché noi sindaci e noi presidenti di regione siamo costretti a nominare un mare di persone con rischio poi che una persona alla quale che io non sono mai andato a casa sua non l'ho mai conosciuto non l'ho mai avuto a che fare si ritrova ad essere solo perché è arrestato il braccio destro del sindaco del presidente della regione cioè se questi soggetti hanno poteri tra virgolette di vigilanza delle due in una o queste persone li hanno sul serio hanno degli strumenti per assumersi questa responsabilità oppure bisogna dire che la responsabilità penale è personale e che non è possibile la proprietà transitiva del comportarsi male anche perché è di intuitiva evidenza per tutti che persino un familiare un figlio una moglie un marito si può comportare male a tua insaputa è un fatto e naturalmente coinvolgere col concetto della vicinanza qualcun altro nelle medesime vicende è una cosa che peraltro lede anche il principio come possiamo dire di legalità perché molti molti si allontanano dalla politica soprattutto quella che facciamo noi cioè in prima linea dove i rischi sono altissimi si allontanano per timore per l'utilizzo fraudolento o colpevole o colpevole di effetti mediatici e quindi secondo me se se vogliamo dare responsabilità maggiori con la costituzione di nuclei ispettivi per gruppi di comuni o nei comuni più grandi questo potrebbe essere una però ovviamente è una lesione dei diritti del lavoratore fortissimo cioè nel senso che in questa maniera si entra in una storia che è quella dell'ex statuto dei lavoratori che vietava captazioni vietava persino dei telefoni dell'ufficio perché la questione è assolutamente delicata per quanto riguarda poi invece l'antimafia sociale che è l'unica della quale io posso darvi consigli perché sul resto onestamente non sono più non è più nelle mie competenze io penso che una legislazione nazionale che riconosca l'antimafia sociale gli dia uno statuto la fondi dal punto di vista delle categorie di conoscenza siamo stati i primi a fare una norma come il 416 bis dobbiamo essere i primi a fare una norma in cui si dice che la mafia non si combatte solo con il codice menale ma si combatte in un'altra maniera anche in un'altra maniera chiedo scusa perché qui devo stare attento a quello che dico anche in un'altra maniera prendendo perché poi le cose di cui vi ho parlato non è che sono accadute solo in Puglia in Calabria ci sono solo che sono fatti estemporanei la differenza tra la Puglia e le altre regioni è che questo è un fatto istituzionalizzato con tutti i suoi limiti difetti ma questa è una regola che viene applicata ovunque non abbiamo ancora potuto coinvolgere bene i sindaci se non attraverso i finanziamenti per le iniziative di antimafia sociale devo dire che molti comuni si sono hanno partecipato a questi bandi ma certo avere una certezza di risorse perché noi abbiamo adoperato spesso i fondi europei dell'FSE avere una certezza di risorse che ci consenta di rendere istituzionalizzati questi uffici è una cosa di grandissima importanza perché io ho sempre detto questo quando l'uomo istituzionalizza qualche cosa quando si accorge che è una cosa la sua esperienza è così importante che va tramandata se tu non istituzionalizzi c'è il rischio che il prossimo sindaco di Bari l'ufficio dell'agenzia lo ritenga inutile e lo cancelli è la stessa cosa per la regione Puglia se viceversa ci fosse un riconoscimento e devo dire c'è un materiale enorme che credo che durante la presidenza dell'onorevole Rossi Bindi ci siano state degli approfondimenti anche perché non posso non citarlo oggi io avevo un giovane collaboratore un criminologo col quale abbiamo lavorato a tutto questo che si chiamava Stefano Fumarullo che è stato anche consulente della commissione antimafia e senza di lui io non sarei arrivato ad avere i complimenti che lei oggi mi ha fatto non so se è chiaro cioè noi siamo arrivati a questo punto perché avevamo un professionista accanto che ci ha consentito di elaborare le linee guida che istituzionalizzavano per la prima volta dall'antimafia sociale con i limiti dell'esperienza ma che secondo me è stato un valore molto importante quindi io vi consiglio di proporre al Parlamento della Repubblica la istituzionalizzazione dell'antimafia sociale una specie di registro delle associazioni no 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 della strategia prego senatrice Rando sì sì viene lei grazie grazie presidente beh molte cose sono state già fatte domande anche risposte diciamo anche nella relazione che ha fatto il presidente devo dire che ho ascoltato con interesse la prima fase diciamo del presidente Emiliano quando era procuratore quindi insomma il suo aspetto più repressivo quando diciamo invece ci ha raccontato l'aspetto preventivo l'aspetto dell'antimafia sociale quindi che ho veramente apprezzato perché venendo anche da una realtà in cui insomma conosco quando i territori sono occupati sono occupati militarmente quasi come se fossero i comandanti di quel territorio e quando questo invece con tutte le attività fatte e con le modalità fatte quando questo invece indebolisce le mafie indebolisce proprio il controllo del territorio seppur oggi lo hanno detto anche altri le mafie non hanno più la necessità di essere più controllori del territorio ma controllori di mercato ma questo diciamo è un'altra cosa che no la cosa che mi interessava poi la Puglia non bisogna dimenticare lei ha parlato di del piccolo del giovane non piccolo del giovane Michele Fazio ma non possiamo dimenticare alla luce anche del 23 maggio che si sta avvicinando quando la Puglia ha pagato in termini di lotta delle mafie non possiamo dimenticare Antonio Montinari Rocco Di Cillo che sono pugliesi seppur diciamo morti a Palermo Francesco Francesco Marcone e tanti altri insomma Renata Fonte questi non li dimentichiamo e questo diciamo è anche un tributo diciamo al ricordo alla memoria e credo che anche un'antimafia sociale significa anche questo cioè dare memoria e impegno partendo anche da chi ha pagato quella vita devo dire e questo diciamo devo dare anche atto alla Presidente che su questo ci mette e ci ha dato anche stimolo e ci mette anche tanto di suo quello che non bisogna solo guardare la parte per quello che fa la commissione antimafia la commissione antimafia ha un comitato di lavoro che si chiama cultura della legalità e protezione dei minori questo perché lo dico perché l'aspetto della funzione che ha la commissione antimafia che poi sono i parlamentari che sono anche i legislatori che guardano anche sotto il profilo preventivo che guardano anche quali sono oggi i veri snodi per poter combattere le mafie che sono i minori e dobbiamo lavorare diciamo sulla cultura e questo devo dire c'è una grande attenzione visto che lei è qui insomma che ha fatto questa esperienza un po' diciamo ha cominciato a fare questa esperienza sul tema dei minori lo ha detto ha fatto un lavoro mettendo insieme istituzione associazione e su questa cosa la commissione sta cercando di lavorarci anche per un progetto di legge che a noi sembra la nuova meta della lotta alle mafie la legge della torre rognoni che ha un suo senso questa invece è una legge che può assomigliare ma in maniera diversa che è un po' quello che ha sollecitato lei sull'esperienza che avete fatto questa è la domanda la valutazione era un po' per andarci nel merito perché molte altre cose sono state già dette sull'esperienza che ha lei questa commissione lavorerà per costruire una cornice legislativa a tutto questo quello che lei diceva l'antimafia sociale qui viene riconosciuto il ruolo dell'antimafia sociale dentro questa cornice le regioni possono le indicazioni o comunque suggerimenti ai legislatori a questo punto le regioni possono avere una funzione importante per esempio la funzione dei servizi sociali lei diceva aumentato perché ti accorgi di un fenomeno e lo puoi combattere sai anche strumenti dico tutto questo quali suggerimenti e che funzione può avere la regione dentro una cornice legislativa guardando i minori che sono quelli che dobbiamo rompere la fascinazione della subcultura mafiosa io la chiamo subcultura e non cultura mafiosa quindi su questo visto che la Puglia che viene da un momento in cui non era riconosciuto la mafia perché non c'era la mafia la Sacra Unita non era mafia era altro adesso invece in questo percorso che è stato fatto insieme lei l'ha detto in tutti i modi le lotte alle mafie si fanno a livello repressivo la fa la magistratura ma a livello culturale preventivo l'abbiamo fatto insieme questo si dà atto ma su questa cosa e sui minori sulle donne che parlano anche diciamo perché si parla alle donne anche per parlare poi ai figli per dire insomma rompi questa fascinazione o questo indottrinamento mafioso che le donne fanno spesso nei confronti dei figli perché poi le donne educano i figli dei mafiosi questo su questo quale indicazione se ci sono suggerimenti perché c'è un comitato che sta lavorando su questo e quindi può essere anche un'occasione importante grazie allora io innanzitutto volevo ringraziarla per avere citato Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro e per avere citato anche Renata Fonte è chiaro che io ho il privilegio di essere amico della famiglia Montinaro sono stato il padrino di Cressima di sua nipote quindi è chiaro che adesso si è mischiato il rapporto civile con quello personale però e devo dire che tante sono le vittime di mafia pugliesi tanti sono sono tante e chiaramente non posso citarle tutte e devo dire che sono un presidio meraviglioso tra queste c'è anche Renata Fonte e le devo dire che sia pure per l'eterogenesi dei fini perché insomma non era detto che questa cosa potesse avvenire ma è avvenuta la figlia di Renata Fonte che si chiama Viviana Matrangola adesso è assessore alla cultura tu cur alla legalità e all'antimafia sociale devo dire che questa questo architetto è una donna di dal curriculum impressionante che onestamente non aveva mai voluto saperne di di scendere agli inferi come dico io facendo facendo politica ma lo ha fatto in un momento in cui evidentemente ha sentito il bisogno di difendere la sua regione poi contemporaneamente sempre ai fini che ci riguardano io ho nominato assessore la prima donna in cento anni che è stata presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Bari che ha una delega invece all'ambiente che come capirà è fortemente legato anche a questi temi non li voglio aprire perché sono complicatissimi mi riferisco alle mafie dei rifiuti eccetera eccetera e quindi diciamo in generale esiste una volontà molto determinata da parte della giunta che è un onore di presiedere di insistere sul percorso per insistere però c'è bisogno ovviamente della collaborazione e della costruzione di un luogo di pensiero che consenta perché poi chiudo perché non voglio farla troppo lunga ma siccome stiamo sperimentando la fase proprio creativa dei pilastri degli istituti giuridici dell'antimafia sociale è chiaro che ci dobbiamo andare da un lato con i piedi di piombo ma anche con un po' di coraggio perché è evidente che possiamo commettere degli errori i processi penali diciamo prendo solo quelli post rivoluzione francese quindi col principio dello stato di diritto rispetto a quelli odierni erano delle insomma era la negazione di ogni garanzia quindi è chiaro che bisogna andarci piano essere prudenti però questa è una strada anche perché l'una legittima l'altra cioè quando un procuratore della Repubblica chiede l'ergastolo per qualcuno lo chiede sulla base di una strategia generale della Repubblica che non ha come unico approdo il fatto che sei nato nel posto sbagliato sei nato nella famiglia sbagliata mo ti fai l'ergastolo e ti stai zitto no perché noi siamo intervenuti e abbiamo la possibilità di intervenire in ogni luogo in ogni famiglia dove c'è il rischio di una pedagogia mafiosa lei l'ha chiamata affascinazione ma è una vera e propria educazione insomma chi ha avuto dei bambini piccoli sa che io camminavo col telefono così schiacciato e vedevo mio figlio che aveva tre anni che girava con una cosa che sembrava un telefono e faceva quello che facevo io è chiaro che se mi vedono fare cipollette di cocaina o smontare o rimontare armi in casa si impara quello e onestamente ho avuto spesso da pubblico ministero il senso di colpa come esponente della società civile nel suo complesso di non essere mai intervenuto in queste vicende prima che il vasso si rompesse forse il mio anelito alla politica è nato dal fatto che erano moltissimi i vasi che si erano rotti senza che nessuno avesse fatto nulla poi incollarli è impossibile o comunque molto difficile quindi il mio suggerimento è quello di una forte istituzionalizzazione ancora una volta però con uno spirito pionieristico che bisogna e io vedo dal suo intervento e dall'intervento che l'ha preceduta vedo già in nuce ovviamente io sono un personaggio alle volte sconosciuto anche al mio stesso partito nel senso che ho molti aspetti e quindi mi fa piacere che sempre per eterogenesi dei fini Walter e anche lei abbia avuto l'occasione di conoscere un aspetto della mia personalità che spesso è un po' trascurato dai media i media mi dipingono in una maniera diversa ma in realtà in molte cose noi abbiamo valori comuni che dobbiamo sviluppare e ovviamente c'ho il vizio questo lo ammetto di cercare valori comuni anche con esponenti del centro-destra questo è vero però mi capirete adesso cioè nel senso che avendo affrontato un problema di questo genere quindi mi riferisco ai sindaci e avendo già detto nella mia audizione che il vero patriottismo è affrontare insieme problemi di questo tipo la questione meridionale la lotta alla mafia la questione ambientale non abbiamo parlato di che cosa ho passato io per la demolizione di Punta Perotti o per la bonifica dell'amianto della Fibronit o per la decarbonizzazione dell'Ilva cioè cose gigantesche dove sinceramente c'è bisogno di tutti anche del centro-destra per assurdo ma lo dico ovviamente con una battuta io ci ho sempre creduto nella collaborazione istituzionale e ho citato a testimoni quei pochi che hanno avuto la sfortuna di fare con me attività istituzionale e che ancora ringrazio per la collaborazione che mi hanno dato grazie io devo andare in segreta per Dattis vedo che c'è una mano alzata di Pitalis prima che chiudo se mi sente l'onorevole Pitalis se no chiudo si la sento la sento Presidente no sull'ordine dei lavori Presidente perché intendevo chiarire il senso delle domande poste al Presidente Emiliano travisato il senso sia dall'onorevole Orlando che dall'onorevole Verini io non sono entrato sul merito delle questioni da loro poste mai entrerò perché è nella libertà di tutti però vede io intanto ringrazio il Presidente Emiliano perché quantomeno ha avuto anche l'occasione dal mio punto di vista dare ulteriori elementi di conoscenza perché qui c'è un problema che a me interessa che a noi penso debba interessare come vengono anche da parte della magistratura affrontati i problemi rispetto alle organizzazioni criminali con quale approccio e la questione ma questo lo dico al Presidente Emiliano che conosce il sistema giudiziario sta emergendo proprio da queste audizioni ed è quindi in questa direzione che le mie domande sono state poste una diversità di atteggiamenti da parte soprattutto della magistratura requirente che si comporta in un modo in un distretto in un altro modo in un altro distretto era tutto qui per avere solo elementi di conoscenza niente di personale o di strumentale ci mancherebbe questa è la storia probabilmente di altri o di altri partiti che in relazione anche a vicende recenti sono partiti in barba alla presunzione anche di innocenza perché si predica molto bene quando si tratta di fatti che riguardano gli altri ma si razzola male quando si tratta di fatti che riguardano casa propria mi occorreva precisare questo aspetto Presidente perché chi vuole portare la commissione antimafia su un crinale che non è o accreditare questa immagine davvero non sta facendo secondo me o comunque non sta contribuendo a mantenere nel perimetro che è proprio il lavoro che deve riguardare appunto anche aspetti che dal mio punto di vista ritengo utile qual è l'atteggiamento delle istituzioni e quello dell'amministratura per appunto essere messa nelle condizioni di poter operare grazie grazie a lei onorevole Pitalis io chiedo agli uffici di staccarmi tutti i collegamenti in modo che si possa fare la segretata grazie a tutti